Grazie a tutti. Il curatore deve svolgere quotidianamente nell'accertamento delle sue attività. Al tavolo con me oggi sono seduti relatori che non hanno bisogno di presentazione. Innanzitutto sento di dover ringraziare veramente a titolo personale il Presidente della Corte d'Appello di Roma, il Dottor Luciano Panzani, che oltre che Presidente della Corte d'Appello studioso, noto, notissimo della materia, tant'è che oggi mentre entravamo in sala abbiamo visto che c'era la sua ultima pubblicazione, questo è il quarto volume a quello di Luciano Panzani, ma fuori c'è soltanto una copia. Quindi si è pensato, scherzando ovviamente, di poter mettere vendita in questa soltanto all'asta con firma dell'autore perché c'è solo una, perché da domani poi troverete le altre. Quindi come vedete, scherzando, abbiamo la fortuna e il piacere di vedere susseguire a questo tavolo una serie di autori con pubblicazioni in atto di primaria importanza e quindi abbiamo anche la fortuna, la possibilità di sentire dalla loro voce quella che è una sorta di interpretazione autentica della loro attività scientifica. Poi abbiamo il Professor Fimanò, che non ha bisogno di presentazioni, come non ha bisogno di presentazioni il Professor Gianvito Giannelli, e da ultimo, ma non da ultimo, l'Avvocato Luigi Bottai, curatore, avvocato in Roma, ma tra l'altro da ultimo, per chi di voi oramai pratica e naviga quotidianamente in OCI e su Receivership, e la vera anima e il vero motore, la propulsione attiva di questo dibattito che pulsa quotidianamente sui nostri PC e quindi grazie all'attività sua e di tanti altri professionisti come lui, evidentemente il nostro aggiornamento è davvero quotidiano. Siccome la materia è tanto importante e non abbiamo oggettivamente molto tempo per trattarla come merita, io ovviamente cedo con grande piacere la parola al Presidente Panzani, che coordinerà la sessione e quindi buon lavoro, ci risentiamo tra un po'. Grazie. Grazie, grazie anzitutto agli organizzatori, a Michele Monteleone prima di tutto. Ormai il numero di iniziative che fanno capo Michele sta diventando vertiginoso, non riusciamo più a tenere il conto, appena finito il convegno internazionale organizzato insieme all'amica Stefania Pacchi, già segue questa serie di appuntamenti e poi mi chiedo che cosa ha in servo per la primavera, insomma, ma comunque sappiamo che qui si fanno delle cose molto interessanti, molto belle. Il tema di oggi, quindi il tema delle responsabilità, la tematica delle responsabilità in tutti i settori del nostro ordinamento è una tematica particolarmente complessa e particolarmente importante. Dicevo qualche tempo fa a un convegno in cui si parlava di colpa medica che se noi prendiamo un manuale di diritto privato e guardiamo, che so, la materia delle successioni, la materia dei diritti reali, ma anche la materia dei contratti, per quelli che sono i contratti tipici, non troviamo un quadro così difforme tra quello che veniva insegnato 30-40 anni fa e quello che succede oggi. Certo ci sono stati dei cambiamenti, ma ancora si possono riconoscere le linee fondamentali. In tema di responsabilità le cose non stanno così. Veramente, senza che venissero praticamente modificate le norme, la giurisprudenza ha fatto moltissimo e il quadro di riferimento è completamente cambiato. Qui ci dobbiamo occupare di un settore più ristretto. Ma anche qui le cose sono molto mutate, per esempio perché quando io ho cominciato a fare il giudice delegato, quindi all'inizio degli anni Ottanta, di azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci delle società, sostanzialmente non se ne facevano. E la giurisprudenza era estremamente restrittiva nel configurare la responsabilità degli amministratori. La riforma della disciplina delle società in questa materia portò a una riscrittura delle norme perché si diceva che i poveri amministratori erano troppo soggetti alle azioni di responsabilità promosse non tanto dai soci durante l'attività della società ma appunto dai curatori in caso di fallimento e quindi si stabilì il principio che non vi era più la responsabilità solidale di tutti i membri del Consiglio di amministrazione ma soltanto nei limiti delle notizie, delle informazioni che erano state portate dagli amministratori operativi. Questo però non ha cambiato sostanzialmente il quadro perché le ipotesi di responsabilità che poi vengono di fronte ai giudici sono quasi sempre ipotesi macroscopiche e quasi sempre accanto al profilo della responsabilità civile c'è il profilo della responsabilità penale. Cioè è l'altra faccia della bancarotta per distrazione o anche della bancarotta semplice per aggravamento del dissesto. Oggi noi non ci occupiamo di tutti i profili di responsabilità di amministratori e sindaci anche perché per esempio non ci occupiamo del problema della quantificazione del danno o del nesso di causalità tra la condotta e il dissesto sono temi importanti ma sono temi già arati quindi non riteniamo che sia il caso di soffermarci dovendo comunque per ragioni di tempo soffermarci su alcuni temi soltanto però a me preme dare una raccomandazione di carattere generale operativo a tutti i curatori non fate delle azioni inutili cioè l'attività del curatore è sempre diretta a un recupero, a un incremento dell'attivo a dei risultati che vadano a beneficio dei creditori non esperite azioni di responsabilità nei confronti di soggetti nullatenenti non esperite azioni di responsabilità quando non sapete presumibilmente quale potrà essere il risultato utile chiedendo 10 per poi ottenere in concreto con l'azione esecutiva 0,5 questo tipo di azioni purtroppo viene esperito a volte soltanto per evitare di rischiare poi di essere oggetto di contestazioni da parte di qualche creditore o per dimostrare il proprio zelo nei confronti del giudice delegato o del comitato dei creditori ma è un'iniziativa evidentemente dannosa e quindi in qualche misura potrebbe addirittura portare a profili di responsabilità per il curatore ma invece si valuti quello che può essere il risultato utile e se c'è una grossa differenza tra quello che è il patrimonio dell'amministratore e del sindaco nei cui confronti si agisce e quello che è il danno si dica fin dal principio che si limita la domanda non perché non ci sia un maggior danno ma perché è perfettamente inutile andare a pagare un'imposta di registro oltretutto qualche volta anche su questa materia qui si creano poi dei contenziosi con l'amministrazione delle finanze che impediscono di chiudere il fallimento tema che io tratterò poi alla fine di questo mio intervento e in qualche minuto in dieci minuti o poco più perché diversamente usciremmo dai limiti tratterò anche il tema della responsabilità per concessione abusiva di credito della banca ma adesso mi compete fare un pochino una rapidissima carrellata delle tematiche che saranno trattate oggi per introdurre un pochino i relatori e allora cominciamo a dire che la relazione del professor Giannelli riguarda la responsabilità per la mancata prevenzione della crisi e il primo quesito che dobbiamo porci è se noi abbiamo delle norme che figurano questo tipo di responsabilità perché certamente noi abbiamo delle norme che configurano un'ipotesi di responsabilità in capo agli amministratori della società ma anche ai sindaci e ai liquidatori nel caso in cui si prosegua nonostante la perdita del capitale sociale e anzi l'ingresso in procedura è l'unica ipotesi quando si attiva una procedura di concordato preventivo con continuità dell'attività di impresa che consente di proseguire l'attività senza ripianare la perdita o senza azzerare la perdita o senza procedere alla trasformazione della società in un altro tipo per cui non si è richiesto un capitale sociale minimo quindi una società di persone non si è richiesto un capitale minore al di fuori di queste ipotesi però il quesito che quindi certamente se si perde il capitale sociale gli amministratori rispondono se proseguono l'attività e se proseguono l'attività il problema della responsabilità è oggi valutato diversamente rispetto al momento in periodo anteriore l'entrata in vigore della riforma nel 2003 quando l'articolo 2479 configurava una sorta di ipotesi di responsabilità oggettiva connessa alla sola perdita del capitale sociale oggi occorre che venga dimostrata l'esistenza di un pregiudizio e non solo di un pregiudizio ma anche di un comportamento che sia in contrasto con l'obbligo di conservazione dell'integrità e del valore della partecipazione come si esprime la legge ma al di là di questa ipotesi possiamo configurare quindi immaginando per esempio non un'impresa costituita in forma societaria anche se ormai sono la maggioranza ma immaginando un'impresa individuale possiamo configurare una responsabilità in Germania la risposta sarebbe sicuramente sì perché la legge tedesca dice che dal momento in cui si verifica lo stato di di sesto l'imprenditore ha 21 giorni per chiedere l'apertura di una procedura dopodiché rischia delle responsabilità anche rilevanti dal punto di vista penale la regola dei 21 giorni ha fatto sì che ci fossero fenomeni di forum shopping di uscita di fuga e trasferimento della sede soprattutto in Inghilterra allo scopo di aver più tempo per trattare con i creditori ma abbiamo una regola analoga in Italia beh la risposta è in qualche misura sì qualche misura sì perché la bancarotta semplice comprende un'ipotesi che è quella dell'aggravamento del dissesto dell'imprenditore che aggrava il dissesto astenendosi da richiedere la dichiarazione del proprio fallimento quindi da questo punto di vista ci può essere una responsabilità ma che cosa succede quando non c'è la nozione penalistica di dissesto con qualche con qualche differenza ma in sostanza corrisponde allo stato di insolvenza che cosa succede quando non c'è uno stato di insolvenza quando c'è quella situazione che costituisce il presupposto per l'accesso alla procedura di concordato preventivo all'accordo di ristrutturazione prende il nome di stato di crisi possiamo dire che c'è comunque una responsabilità per gli imprenditori o per gli organi della società che non si attivano beh secondo me sì nel senso che gli amministratori hanno prima di tutto un obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e amministrano un patrimonio che non è loro e che rappresenta la garanzia dei creditori quindi qualunque condotta che violi questo obbligo di conservazione del patrimonio nell'interesse non soltanto dei soci ma anche dei creditori è un comportamento dannoso che può essere dar luogo a responsabilità la giurisprudenza in passato ricordo una sentenza della Cassazione Stensore Rovelli dal 2007 introducevo un'area di non responsabilità per le scelte cosiddette gestionali imprenditoriali cioè il discrimine della responsabilità era data dalla Business Judgment Rule per usare un'espressione americana vale a dire rispondi per i comportamenti che integrano gli estremi della colpa ma non risponde quindi negligenza imperizia imprudenza e via dicendo ma non risponde di quei comportamenti che corrispondono soltanto a scelte di carattere imprenditoriale il rischio di impresa è connesso all'attività di impresa i creditori coloro che contrattano con l'impresa lo sanno e quindi non si può chiamare gli amministratori a rispondere per scelte che poi col senno di poi si sono rivelate sbagliate da questo punto di vista la decisione di entrare in procedura o di tentare un concordato stragiudiziale o di proseguire l'attività confidando che il mercato si riprenda entro certi limiti può rientrare nella business judgment rule evidentemente entro certi limiti recente giurisprudenza della Cassazione nega che esista questo limite si risponde sempre cioè il discorso è se c'è imperizia negligenza e via dicendo comunque si risponde quindi anche una scelta imprenditoriale non va esente da questa valutazione io personalmente sono perplesso su questo revirman della Cassazione anche perché pone il giudice in una situazione quasi impossibile per ricostruire che cosa si sarebbe dovuto fare di fronte a una variazione del mercato se io credo che il mercato si riprenda e continuo a produrre e poi non succede rispondo questo è un problema decisamente difficile accanto alla responsabilità della singola società c'è poi il gruppo e il gruppo di società ha una disciplina particolare una disciplina di cui oggi non tratteremo se non sotto un profilo che è quello affidato al professor Finmanò che è quello dell'azione di responsabilità nell'ambito del gruppo ma esperita dal commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria o dal curatore o comunque nell'ambito di una procedura concorsuale ma dove il punto di riferimento più generale è il limite dei poteri della capogruppo nei confronti delle società consociate non esiste una nozione giuridica di gruppo non esiste nel nostro ordinamento una nozione di interesse di gruppo come valore in sé questi sono principi che la giurisprudenza ha più volte affermato ma il nostro legislatore con la riforma del 2003 ha adottato e fatto appropria la teoria dei vantaggi compensativi cioè l'interesse della singola società può essere sacrificato nell'interesse delle altre società del gruppo e quindi anche della holding a condizione che un vantaggio corrispondente ma non un vantaggio teorico ma un vantaggio concreto ed effettivo venga alla società controllata così per esempio l'operazione con cui la controllata concede ipoteca su un proprio immobile a garanzia di un finanziamento che va alla capogruppo può essere nell'interesse della controllata perché la controllata ne ricava dalla capogruppo una serie di vantaggi quesito è questi vantaggi possono consistere puramente semplicemente nell'interesse alla prosecuzione dell'attività di impresa e quindi i creditori della singola società e per essi il curatore possono in qualche modo dolersi di scelte che sono andate nel senso della conservazione dell'attività a livello di gruppo ma che nello stesso tempo al di là di questo vantaggio in sé non hanno portato altro utile concreto questi sono ovviamente interrogativi assai complessi da affrontare e risolvere il tema che viene affrontato dall'avvocato Bottai è un tema che va un po' al di là di questa di questa serie di casi perché riguarda la responsabilità del curatore ma vista l'attività che voi nella maggioranza dei presenti fate è da ritenere che sia assolutamente importante e fondamentale anche trattare di questo profilo perché oggi il curatore si trova sempre di più non soltanto a svolgere un'attività di apprensione liquidazione dei beni accertamento del passivo in collaborazione e coordinamento col giudice delegato e via di sempre c'è le attività tradizionali dove la responsabilità si c'è ma è nei limiti dell'ovvio oserei dire tant'è che in tanti anni i casi in cui ho visto delle azioni di responsabilità nei confronti del curatore li posso contare sulle dita di una mano no il problema si pone quando il curatore si trova a gestire un'impresa che è un'impresa in attività perché non sempre si può interrompere l'attività il giorno stesso della dichiarazione di fallimento c'è un problema per esempio di prosecuzione dell'attività per ultimare la produzione trasformare materie prime semilaborati in prodotti finiti c'è un problema di responsabilità perché si è chiamati a gestire un'impresa che inquina e dove bisogna mantenere in attività lo stabilimento perché diversamente i danni all'ambiente sarebbero assolutamente astronomici quindi è una posizione molto ma molto complessa da questo punto di vista sicuramente io credo che la prima linea guida che si deve dare al curatore è questa sia per il civile che per il penale il fallimento rappresenta sicuramente una legge speciale dell'impresa rispetto a quella che regola l'impresa in attività ma solo fine della liquidazione dei beni e del soddisfacimento dei creditori per il resto vigono le regole ordinarie il che significa che il curatore non è legibus solutus per esempio in materia di ambiente di inquinamento di igiene ha gli stessi obblighi che ci sono nei confronti dell'imprenditore in bonus e quindi non può chiamarsi fuori da questo tipo di responsabilità vengo in ultimi dieci minuti se li ho Michele non so se hai fatto i conti al tema della responsabilità della banca è un tema complesso un tema complesso che per esempio bisogna dire è stato affrontato in Italia e in Francia in modo molto diverso perché possiamo dire che in Italia le azioni di responsabilità nei confronti della banca per concessione abusiva di credito si ha secondo la teoria concessione abusiva di credito quando la banca eroga un finanziamento al di fuori delle regole che consentono di finanziare l'impresa e così facendo reca un danno a terzi perché perché in genera negli terzi in particolare negli altri soggetti che trattano con quell'impresa che viene finanziata la falsa apparenza di un'impresa in buone condizioni mentre in realtà in buone condizioni non è e quindi ne derivano ulteriori debiti perché l'imprenditore continua ad operare contratta con altri soggetti comprare altri debiti acquista dei beni non li paga e quindi il dissesto si allarga questa è la concezione bene in Italia le azioni di responsabilità per concessione abusiva di credito sono state molto limitate anche per l'intervento delle sezioni unite della Cassazione di cui dirò e viceversa in Francia erano la regola possiamo dire che non c'era procedura in Francia dove non si espedisse l'azione di responsabilità così come non c'era fallimento in Italia prima della riforma 2005 che in cui non si facesse un'azione revocatoria nei confronti della banca è intervenuta la stessa operazione in Francia con le concessioni abusive di credito che è intervenuta in Italia sull'azione revocatoria in entrambi i casi con gli stessi argomenti aumenta il costo dell'erogazione del denaro è un mezzo punto di PIL si è detto bisogna cambiare strada quindi in Francia si sono posti seri limiti modificando una norma del codice di commercio limitando le azioni per concessione abusiva di credito ai casi di frode di immistione della banca nella gestione dell'impresa e pochi altri casi in Italia si sono tagliate le unghie all'azione revocatoria in tutti i due casi non risulta che il credito sia diventato più facile anzi la crisi ha portato a una rarifrazione al credit crunch e via dicendo una profonda differenza in Italia si è sempre detto dalla Cassazione che l'azione di danni per concessione abusiva di credito non è un'azione della massa non spetta la curatela la possono esperire i singoli creditori danneggiati in Francia si è sempre detto il contrario i punti di riferimento normativi non sono gli stessi però indubbiamente è curiosa questa differenza ma qual è la situazione io prima di parlare della legittimazione del curatore vorrei parlare del problema della responsabilità della banca in che limiti si può configurare una responsabilità della banca e qui partirei da una sentenza assolutamente remota della Cassazione che è uscita prima del testo unico bancario del 1993 quando ancora le banche erano considerate enti di diritto pubblico che dovevano svolgere la loro attività nell'interesse pubblico e quindi era uscita una sentenza in cui si diceva che sussisteva responsabilità della banca in quanto scopo primario dell'ordinamento bancario la garanzia dell'assolvibilità del sistema bancario tramite una corretta erogazione del credito nel rispetto non soltanto delle ragioni dell'utenza ma di quelle delle altre imprese inserite nel sistema e quindi tenuto in conto dei controlli dei vincoli che l'autorità di vigilanza può imporre alle imprese bancarie si poteva configurare colpa extra-contrattuale che si sostanziava nell'omissione della gamma di cauteli imposte alle aziende che esercitano il credito e quindi nella violazione dei doveri gravanti sul soggetto banca a causa del proprio status è archeologia anche perché il caso in realtà era un caso che centrava poco con l'erogazione del credito era un rapporto tra banche in cui una banca tratteneva gli assegni che le erano stati trasmessi da un'altra banca che le aveva ricevuti per la negoziazione li tratteneva più giorni prima di provvedere al protesto per dar modo al cliente di far pervenire la provvista e così ritardando la possibilità per l'altra banca di avendo notizia del cattivo esito di revocare il fido al proprio cliente e di tutelarsi però perché tiro fuori questa vecchissima sentenza perché quando si dice scopo primario dell'ordinamento bancario la garanzia dell'assolvibilità del sistema nel rispetto delle ragioni delle altre imprese inserite nel sistema e quindi omissione della gamma di cauteli imposte alle aziende oggi che vige il principio del merito creditizio e i vincoli che sono imposti alle banche sono imposti nell'erogazione del credito sono imposti nell'interesse alla solvibilità dell'intero sistema bancario ci si può chiedere se quell'interesse pubblico che è uscito dalla porta con la riforma del testo unico del 1993 nuovo testo unico bancario non sia rientrato dalla finestra attraverso le norme che impongono alle banche di rispettare il principio appunto del merito creditizio detto questo abbiamo avuto poche sentenze quasi tutte del tribunale di Foggia nella vicenda del fallimento casillo tutta la giurisprudenza si è fatta sul fallimento casillo ed è una storia curiosa perché queste azioni furono per così dire sparate dalla curatina del fallimento casillo al limite della prescrizione e quindi senza un grande preparazione e poi invece di discutere del merito dove probabilmente avrebbero dovuto essere respinte perché infondate il fallimento citò in giudizio praticamente tutte le banche che avevano operato con la società fallita si andò a discutere dei sommi principi e si fece giurisprudenza forse sul nulla insomma ma il tribunale di Foggia ha parlato di concessione abusiva di credito come violazione del principio del neminem ledere e del dovere di correttezza in quanto il banchiere col proprio comportamento in genera nei terzi l'affidamento sull'apparente solvibilità dell'imprenditore sovvenuto e la situazione soggettiva l'ESA consiste per i creditori anteriori alla concessione abusiva nella lesione del loro interesse alla conservazione del patrimonio del debitore in quanto è chiaro che attraverso questo finanziamento l'imprenditore continua ad operare contrae nuovi debiti e la torta si riduce e il fallimento viene dichiarato in ritardo e quindi anche da questo punto di vista c'è un danno per i creditori posteriori della concessione di credito c'è una lesione della libertà contrattuale perché se non ci fosse stato il finanziamento non avrebbero neppure contrattato e non sarebbero diventati creditori sotto il secondo profilo il tribunale di Foggia richiama la inosservanza delle prescrizioni imposte dalla Banca d'Italia ora io tralascio molte altre diverse costituzioni per esempio si è parlato di abuso del diritto ma credo che siamo fuori da questa prospettiva se non altro perché l'abuso del diritto presuppone un rapporto contrattuale e qui invece il danno è un danno nei confronti dei terzi ma detto questo c'è da dire che probabilmente si può parlare di concessione abusiva di credito tutte tutte le volte in cui ci si distacchi nell'attività di erogazione del credito da parte della banca da quella che è una prudente gestione cioè ci sono una serie di regole che rientrano nelle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia ora non più di competenza della Banca d'Italia ma dell'autorità europea che controlla il rispetto delle regole che l'Unione si è data che sono entrate in vigore da pochissimo tempo e queste regole non possono essere evidentemente obliterate senza che ne derivi un profilo di responsabilità detto questo e quindi sintetizzando il quesito fondamentale detto in via incidentale tutte le volte nelle grandi procedure nei grandi dissesti tutte le volte assistiamo delle erogazioni di credito che sono palesemente concesse in violazione delle norme basta pensare non lo so alla vicenda Parmalat dove le banche finanziavano su una base di una situazione apparentemente in regola perché i bilanci non facevano vedere la situazione di dissesto che si era creata ma sarebbe stato sufficiente un controllo incrociato con pochi dati per capire che in realtà la fortissima esposizione dal punto di vista finanziario senza una contropartita e dicevo tutto questo ci porta però a quello che è il nodo fondamentale vale a dire quando un imprenditore in crisi si presenta al sistema bancario per un finanziamento che è indispensabile per la ristrutturazione la banca corre dei rischi rischia di essere responsabile allora qui possiamo dire che sicuramente tutto il complesso delle norme che è stato emanato a partire dal 2005 in materia di riforma delle procedure concorsuali va nel senso di escludere questa responsabilità l'attuale testo del 217 bis della legge fallimentare che prevede questa ipotesi di esenzione da responsabilità penale che poi viene qualificata diversamente dai penalisti perché non rientra in nessuno dei canoni previsti dalla nostra codice precedentemente e ci dice che non c'è bancarotta semplice e non c'è bancarotta preferenziale nel caso in cui siano stati erogati dei finanziamenti questi finanziamenti siano stati autorizzati dal tribunale ma quindi questo riguarda la finanza erogata nel corso della procedura dal momento in cui la società entra in procedura di concordato preventivo i finanziamenti erogati sono finanziamenti che in quanto prevalentemente atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal tribunale o eventualmente dopo l'ammissione alla procedura dal giudice delegato cosa succede più in generale che i finanziamenti dovrebbero rientrare nell'ambito del piano del piano che deve essere sottoposto agli organi della procedura deve essere votato e approvato dai creditori oggetto del giudizio di omologazione allora mi sembra evidente che un atto di questo tipo un finanziamento che rientra in un atto di questo tipo soggetto a tutti questi controlli non possono integrare un'ipotesi di responsabilità della banca salvo che ci sia un'ipotesi di falso salvo che vengano tacciute delle circostanze ma direi che siamo qui in piena patologia nell'ambito del vero e proprio dolo quale può essere la zona grigia in cui ci possono essere dei profili di responsabilità quella della finanza ponte perché la finanza ponte non è coperta da nulla e viene erogata sostanzialmente al buio per consentire la prosecuzione dell'attività di impresa intanto che si studia cosa fare perché la redazione di un piano richiede alcuni mesi richiede le trattative con le banche ma intanto bisogna continuare ad essere operativi bisogna non perdere quote di mercato bisogna continuare a acquistare dai fornitori pagare i dipendenti in sostanza la ordinaria gestione dell'attività di impresa deve proseguire questo ha un costo la banca che eroga questa finanza ponte corre dunque dei rischi io riterrei personalmente di no purché il tutto venga fatto in maniera corretta e qui si pone un quesito ritorno al quesito di fondo e cioè possiamo ritenere che la banca per il fatto stesso che eroga credito nei confronti di un'impresa che dal punto di vista del merito creditizio non lo meriterebbe perché non è in buone condizioni incorra in profili di responsabilità beh qui probabilmente c'è un problema di applicazione e interpretazione delle norme le norme attualmente vigenti sono state scritte come del resto le istruzioni di vigilanza e Brasilea 2 prima per evitare per garantire la solidità del sistema bancario nel suo complesso quindi il principio del merito creditizio e non ho modo di approfondire significa che la banca che eroga un finanziamento a un soggetto che è in difficoltà ha un costo di questo finanziamento nel senso di risorse che vengono sottratte altri investimenti con gli accantonamenti obbligatori che è più elevato di quello che si ha finanziando un soggetto in bonus e questa è una delle spiegazioni del perché è così difficile finanziare un'impresa in crisi l'altra sta nel fatto che i tassi di interesse che si dovrebbero applicare urtano contro i tassi soglia e quindi il mercato delle imprese dissestate del finanziamento delle imprese dissestate vive e prospera fuori dall'Italia ma non in Italia allora questo significa che l'impresa ha un costo ma non significa che c'è un divieto alla banca di finanziare un'impresa in crisi ma soltanto ha un obbligo nel complesso della sua attività di mantenere determinati fattori di equilibrio l'attività bancaria è un'attività di impresa come tutte le attività di impresa è soggetta al rischio di impresa e quindi a meno che non ci sia una violazione delle specifiche regole di prudenza che guidano l'esercizio dell'attività bancaria e qui ci sono comunque delle regole dettate dalla banca d'Italia non c'è per il fatto stesso derogare credito a un'impresa in difficoltà un problema di responsabilità si può anzi pensare che entra in una certa misura questo tipo di attività abbia carattere fisiologico perché la ristrutturazione e la conservazione delle attività di imprese esistenti è considerato un valore dall'ordinamento non solo dall'ordinamento italiano ma anche dall'ordinamento comunitario tant'è che la raccomandazione del marzo 2014 della Commissione Europea va proprio in questa direzione un'ultima parola sul problema della legittimazione le sezioni unite con tre sentenze se non vado errato del 2006 hanno detto che tre sentenze emanate contestualmente con lo stesso estensore hanno detto che non c'è una legittimazione del curatore non c'è perché le azioni di massa prima di tutto la revocatoria hanno ma anche l'azione di responsabilità per danni ma qui c'è una norma espressa che attribuisce la legittimazione al curatore hanno la caratteristica di essere azioni recuperatorie a favore del patrimonio su cui si soddisfano i creditori ma a fronte di un pregiudizio indifferenziato per l'intera massa dei creditori cioè tutti i creditori sono visti nello stesso modo viceversa dicono le sezioni unite nel discorso che facevo prima qui abbiamo un danno che è diverso dalla concessione abusiva di credito che è diverso per i creditori anteriori e per i creditori successivi questa stessa circostanza dimostra annunitamente la mancanza di una norma nella legge che ci dica il contrario che non è azione che spetta al curatore ma è azione che spetta invece al singolo creditore la cosa curiosa è che dopo questa affermazione delle sezioni unite noi non abbiamo visto nessuna azione di danni nei confronti delle banche per concessione abusiva di credito organizzata o come clex action e ovvero come litis consorzio perché è assolutamente normale che ci siano azioni in cui si radunano gli interessi di 50 100 persone o 1000 persone e si agisce cumulativamente c'è stato il silenzio più totale questa è una cosa che mi ha sempre colpito e probabilmente la spiegazione sta nella difficoltà della prova nella difficoltà della prova della concessione abusiva di credito da parte del creditore che non ha a disposizione gli elementi utili per di conoscenza forse in questa materia ci potrebbe stare ma ci vorrebbe una norma di legge un'inversione dell'onere della prova nella ricorrenza di determinati fattori per esempio la violazione delle regole che assistono la erogazione del credito c'è un filone giurisprudenziale minoritario di cui le sezioni unite danno conto ma nonostante le sezioni unite una sentenza o due isolata di merito in senso contrario ci sono state ce ne sono state poi ancora alcune recentemente che ritengono che l'azione possa essere sperita dalla curatela sul presupposto che il credito sia già parte del patrimonio della società fallita dell'impresa fallita e quindi il curatore lo trova nell'ambito del patrimonio ed esperisce l'azione l'obiezione che si può fare a questa costruzione è che in questo caso il danno sarebbe danno per fatto del sovvenuto cioè per fatto dell'operato degli amministratori della società in concorso con la banca e quindi l'azione di danni verrebbe proposta dagli stessi soggetto non sarebbe l'azione di danni dei creditori sarebbe l'azione di danni dello stesso soggetto che ha causato il pregiudizio e quindi bisognerebbe immaginare che la condotta degli amministratori sia stata una condotta ultra vires o una una violazione tale dei doveri da determinare una rottura del rapporto organico tra amministratori e società tale da legittimare l'esperimento dell'azione devo dire è un territorio che non mi risulta che sia stato assolutamente arato queste sentenze in senso contrario sono sentenze che dal punto di vista di questi problemi non fanno alcun approfondimento insomma mi sembra una materia sulla quale ci potrebbe ancora essere molto da fare e molto da meditare col che io mi fermo e passo immediatamente la parola a Gianvito Giannelli grazie presidente Panzani grazie anche al presidente Monteleone per questo invito devo dire che la relazione di apertura ha già tateggiato con rigore sistematico i confini entri quali mi muoverò e però mi sia permesso raccontare due brevissimi aneddoti a questo riguardo il primo è il primo riguarda il presidente Panzani ha detto e l'argomento nel quale adesso ci stiamo per addentrare è un argomento delicatissimo e tra l'altro coinvolge anche o può coinvolgere persino profili di responsabilità del curatore perché si tratta di azioni complesse che naturalmente producono anche una serie di ingenti costi processuali ed imposte di registro cosicché mi è capitato di assistere alcuni componenti di un collegio sindacale per la verità soltanto nella fase finale in fase transattiva che erano stati condannati a risarcire ad una curatela la bellezza di 30 miliardi di vecchie lire quindi in grosso modo un 15 milioni di euro alla fine in fase di la condanna era stata confermata poi in appello in sede poi alla fine in fase di recupero di transazione la curatela ha recuperato circa l'equivalente nel frattempo si era passati all'euro di 600 mila euro che però sono serviti a coprire se no i costi di registrazione della sentenza e i costi professionali però certe volte mi chiedo anche se le curateli fallimentari soprattutto in una situazione di mercato professionale asfittico quale quello purtroppo che stiamo vivendo un po' tutti non adempiano anche a una funzione sociale di redistribuzione della ricchezza nel senso di diciamo di produrre e compensare prestazioni professionali ma questa naturalmente è una battutaccia e a proposito di battutacce invece con riferimento alla vicenda Casillo me ne ricordo una simpatica quando effettivamente le curatele perché erano tante curatele delle società facenti parte del cosiddetto gruppo Casillo promossero ai limiti della prescrizione queste azioni di responsabilità nei confronti delle banche e quindi circa una trentina di azioni di responsabilità fu organizzata in sede abbi fu organizzato un incontro la vicenda ormai abbondantemente decorsa la posso raccontare con i legali delle banche però parteciparono anche alcuni amministratori delegati perché si trattava naturalmente era una iniziativa nuova era un'azione innovativa quella che era stata proposta dal professor Galgano poi fu coltivata dal professor Insitari e naturalmente c'era un certo sconcerto e mentre i legali si confrontavano su come difendersi e a un certo punto l'amministratore delegato di un'importante società di recupero di un noto gruppo bancario era un lucano molto sanguigno che però in quel momento andava per la maggiore e come argomento difensivo propose se adesso noi dobbiamo denunciare l'avvocato cioè il professor Galgano il giudice delegato e il curatore perché si sono permessi di avviare questa azione e ci fu un momento naturalmente di sconcerto perché nessuno aveva il coraggio di smentire questo signore che era molto autorevole e prese la parola il maestro del professor Fimano e cioè il professor Minervini il quale difendeva fra tutte le banche presenti forse la più piccola era una banca di mi pare editore del greco deve essere stata una BCC ed era collegato in videoconferenza e nessuno aveva il coraggio e lui disse ma io con la sua faccetta un po' chioccia ho sentito gli argomenti del dottor Tizio su questo ma io per quella che era mia limitatissima esperienza diceva Minervini a denunciare curatori e giudici si spreca soltanto inchiostro e carta dopodiché di questa iniziativa non si parlo più fine della parentesi semiseria e veniamo al tema che mi è stato affrontato innanzitutto evidentemente in quale momento ci sono degli obblighi l'anticipato da passura il presidente Pansani ci sono degli obblighi specifici che incombono sui gestori dell'impresa e in particolar modo sugli organi della società quando matura la crisi e in quale momento si può ammesso che questi obblighi ci siano si può dire che la crisi sia maturata per certi versi qui qualcuno più arguto di me ha detto parlo di roppo ha detto guardate questo è un pochettino come il principio di indeterminazione della fisica cioè un principio secondo cui una particolare aliquota della materia viene modificata secondo il livello di percezione di chi la osserva in altre parole non è possibile una percezione oggettiva è invece possibile più che altro formulare un giudizio in termini giuridici le stesse considerazioni sono state sviluppate per esempio da Amedeo Bassi in un pregevole lavoro di qualche anno fa e mi piace ricordare che così con una battuta cara sicuramente al Presidente Monteleone che sarei tentato persino di dire che la crisi poi emerge quando i creditori decidono che la crisi è emersa quali creditori evidentemente mi riferisco alle banche e quindi mi rallaccio alla redazione di apertura di Luciano Panzani potrei dire sempre con una battuta calcistica rigore è quando arbitro fischia frase che avevo sempre pensato fosse ascrivibile a Boscov e invece una volta il Presidente Monteleone in una bella lezione che ha tenuto a Bari ha detto guardate che la frase non è di Boscov ma è di Comunardo Nicolai ricordo bene vediamo del Cagliari vediamo del Cagliari noi siamo portati a fare questi esempi per certi versi la percezione della crisi è sicuramente più facile nel momento in cui l'imprenditore è già affidato con il sistema bancario e almeno per quanto riguarda le grosse imprese e le importanti linee di credito la regolamentazione dell'erogazione del credito passa attraverso tutta una serie di pattuzioni che pongono a carico dell'impresa e quindi sostanzialmente a carico degli organi societari degli obblighi di comunicazione alla banca e mi spiego molto spesso noi siamo abituati pensiamo al piano di risanamento ex articolo 67 della legge fallimentare e lo consideriamo il più delle volte come un qualche cosa che viene confezionato in casa che viene tenuto nel cassetto possibilmente privo di data certa e che poi viene tirato fuori al momento opportuno quando ormai è stato dichiarato il fallimento quindi la verifica della tenuta del piano viene fatta ex post però in realtà questi piani spesso e volentieri sono imposti dalle banche sono imposti dalle banche in una situazione di crisi o di pre-crisi quando devono erogare nuova finanza ad un'impresa e però vogliono e assicurarsi che siano rispettati determinati parametri e siccome naturalmente come ricordava il Presidente Panzani l'erogazione di nuova finanza alle imprese in crisi fa lievitare i costi anche per abbattere i costi per abbattere i costi di istruttoria determinati obblighi di comunicazione vengono caricati addosso al soggetto finanziato in altre parole nei contratti di finanziamento vengono previsti tutta una serie di parametri di indici di carattere finanziario di carattere patrimoniale che devono essere rispettati e la cui violazione è specifico oggetto di obbligo di comunicazione dall'imprenditore alla banca cosicché sostanzialmente è l'imprenditore che autodenuncia l'emersione della crisi alla banca questa situazione è però naturalmente non è sempre non è sempre presente e quando c'è facilita le cose facilita le cose perché da una parte evidentemente lo stesso imprenditore o gli amministratori dell'impresa societaria si muovono attraverso determinati parametri che sono stati già contrattualizzati con le banche e quindi sostanzialmente si muovono un po' come il medico che chiamato al capezzale di un paziente rispetta i determinati protocolli siccome prima veniva evocato il tema della responsabilità medica e fosse il medico che rispetta certi protocolli e non rischia probabilmente non incorre in responsabilità ma questa naturalmente è una situazione che non si verifica sempre ma quando ci si muove all'interno di questa situazione si può ragionevolmente e sottolineo ragionevolmente perché poi su questo termine tornerò a pensare che non ci sia responsabilità degli amministratori e non ci sia responsabilità della banca sempre ammesso naturalmente che questi piani di ristanamento funzionino e diciamo siano siano stati attestati con tutti i crismi da un asseveratore da un professionista e ovviamente insomma anche reggano poi ad una loro valutazione in punto di anche di tenuta in punto di motivazione e soprattutto in punto di adeguata istruttoria quando però non ci sono queste situazioni ecco che cosa succede torno alla domanda che è stata fatta prima esistono degli obblighi di attivarsi sì e se sì quando scattano allora facciamo una rapidissima carrellata di quelle che sono delle regole di corretta gestione societaria e imprenditoriale una è quella l'ho appena citata ma poi ne parlerà da per suo l'amico Francesco fin ma no che è contenuta nell'articolo 2497 in tema della responsabilità della società che esercita attività di direzione e coordinamento quando sono stati violati i parametri di corretta gestione societaria e imprenditoriale regola che francamente non avviene nemmeno difficoltà a vedere assurgere una sorta di regola di sistema una sorta di regola di sistema che poi tra l'altro trova specificazione anche nella disciplina dettata dagli articoli dell'articolo 2392 in tema di società per azioni 2476 e poi ancora nella disciplina delle società in liquidazione dico subito che questo obbligo di rispettare i parametri di corretta gestione societaria e imprenditoriale si connota e si specifica di contenuti ben precisi e questi contenuti ben precisi in particolar modo emergono nel caso in cui una impresa e un'impresa societaria sia in crisi poi vedremo quando si può pensare che emerga questa situazione di crisi da che cosa lo ricaviamo perché emergono degli obblighi ben precisi ma in qualche modo è stato anche anticipato prima e abbiamo sicuramente delle norme paradigmatiche e per esempio l'articolo 2486 in tema di società in liquidazione fa obbligo agli amministratori della società a proposito della quale si è verificato una causa di scioglimento di conservare di attivarsi per conservare il valore della impresa e si noti che quello che prima era costruito come un obbligo in negativo cioè il divieto di nuove operazioni si trasforma in un obbligo in positivo di comportarsi in un determinato modo quindi c'è un parametro quello della conservazione del valore che va sicuramente osservato stesso parametro che poi troviamo ripetuto nell'articolo 2487 lettera C a proposito dei criteri di liquidazione che devono essere dettati dalla assemblea e quindi dettati per i liquidatori e tra i quali appunto il criterio ispiratore è pur sempre quello della conservazione del valore dell'impresa e che ci sia una particolare specificazione di questi obblighi secondo me trova conforto anche in una norma sulla competenza della legge fallimentare cioè l'articolo competenza che cosa? competenza a deliberare la presentazione di una proposta di concordato preventivo e cioè l'articolo 152 della legge fallimentare che radica tale competenza nel consiglio di amministrazione perché è importante questo? Prima ha detto il presidente Panzani attenzione quando si verifica una situazione di crisi gli amministratori gestiscono un'impresa che però si appartiene come si dice non più ai soci ma ai creditori perché nell'ipotesi soprattutto di patrimonio netto di segno negativo il valore di realizzo dell'impresa è un valore che è destinato tutto a soddisfacimento dei creditori e non dei soci il che giustifica per un verso perché la competenza con la riforma del 2000 che è partita con il 2005 poi fino alle ultime modifiche del 2012 ma già dal 2005 la competenza è stata radicata nel consiglio dell'amministrazione e non più nell'assemblea come una volta è stato detto questa competenza degli amministratori ad approvare ricorso allo strumento di regolazione della crisi si giustifica perché prima si diceva che l'assemblea era organo sovrano e quindi le operazioni di alta di gestione straordinaria quindi le operazioni potremmo dire di carattere strategico quali la vendita dell'azienda sono di competenza dell'assemblea adesso è stato modificato l'articolo 2380 bis del codice civile e quindi la competenza e degli amministratori questo è vero e quindi l'articolo 152 della legge fallimentare nel momento in cui attribuisce agli amministratori la competenza ad assumere decisioni di salvataggio dell'impresa può essere anche espressione di questa regola generale per cui ripeto codificata nell'articolo 2380 bis del codice civile secondo cui tutte le operazioni di amministrazione vuoi di carattere tra virgolette ordinario voi di carattere straordinario sono pur sempre di competenza degli amministratori questo però non spiegherebbe ancora perché questa norma si applica anche alle SRL perché l'articolo 2380 bis come è noto riguarda soltanto le società per azioni mentre nelle SRL e ovviamente dico cose note a tutti non è caso che ci ritorni esiste una competenza concorrente dei soci nel gestire la società e prova ne sia che tanti soci che rappresentano un terzo del capitale sociale possano chiedere la covocazione dell'assemblea per deliberare su qualsiasi argomento inclusi quelli attinenti alla gestione e allora l'articolo 152 della legge fallimentare probabilmente dice qualche altra cosa dice che in fondo coloro che sono esposti in prima persona nel gestire e risolvere una crisi d'impresa sono gli amministratori ed è giusto che si possano e si debbano attivare senza essere in qualche modo limitati dai condizionamenti dell'assemblea quindi l'articolo 152 della legge fallimentare per certi versi detta una regola potremmo dire anche di responsabilità intanto viene attribuito un determinato potere perché evidentemente c'è una responsabilità quando scatta questa responsabilità nel momento in cui nell'emersione di una crisi gli amministratori non si attivano per risolverla per certi versi il richiamo che facevo prima alla disciplina delle società in liquidazione cioè gli articoli 2486 e 87 lettera C forse non è del tutto fuori di luogo perché naturalmente non è che ogni società in liquidazione sia insolvente e sappiamo anche tra l'altro che non ogni società fallita è di per sé una società in liquidazione perché tra l'altro e ora come ora il fallimento non è più per le società di capitale causa di scioglimento della società medesima quindi e allora tuttavia nelle società in liquidazione quindi nelle società in cui si mira a realizzare il massimo valore dei beni degli asset non vi dubbio che si apra una sorta di conflitto una sorta di conflitto fra i creditori che devono fare affidamento normalmente non tanto su un valore diciamo dinamico ma ci potrebbe anche essere quello in caso di una continuazione dell'attività di impresa sia pure come fatto eccezionale quanto invece su determinati valori statici questa regola di conflitto presuppone sia pure come ipotesi di lavoro che il patrimonio potrebbe non essere più sufficiente per soddisfare tutti quanti i creditori e allora a maggior ragione prevale questo criterio di conservazione della impresa in quale momento scattano e qui ovviamente veniamo al punto dolente quindi in quale momento scattano questi obblighi per certi versi questi obblighi di conservazione e per altro verso poi obblighi anche nei confronti di chi e quali sono evidentemente gli interessi che nello specifico si intendono tutelare ecco per quanto riguarda innanzitutto dico l'ovvio va escluso che il momento possa essere identificato in un fatto di carattere formale ricordiamo che gli amministratori di una società di capitali sono tenuti ad assicurare la conservazione del valore del patrimonio aziendale anche quando non hanno ancora curato la iscrizione della pubblicità della casa di scioglimento presso il registro delle imprese quindi ancorché il procedimento di liquidazione giuridicamente inizi soltanto con la iscrizione presso il registro delle imprese o dell'atto che apre la liquidazione o dell'atto di accertamento della causa di scioglimento e però non vi è dubbio che esistano dei doveri di protezione del patrimonio antecedenti quando gli amministratori si devono attivare ho detto ma è facile nel momento in cui ci sono già degli indici contrattuali ai quali gli amministratori si devono attenere perché hanno negoziato un finanziamento con i creditori istituzionali ma naturalmente non è sempre così per certi versi naturalmente la materia è abbastanza è chiara è abbastanza scivolosa andiamo un pochettino per approssimazioni non vi è dubbio che la crisi possa ritenersi emergente nel momento in cui ci sono degli squilibri di natura patrimoniale o di natura finanziaria questo lo dice l'articolo 67 della legge fallimentare a proposito dei piani attestati asseverati quando parla di un piano di risanamento tendente appunto a riequilibrare la situazione patrimoniale finanziaria quindi uno squilibrio patrimoniale finanziario evidentemente può essere sintomo di crisi ancora l'articolo 2467 del codice civile prevede la postergazione dei crediti maturati a favore dei soci che abbiano a qualsiasi titolo versato somme in società in una situazione di squilibrio patrimoniale finanziario quando sarebbe stato ragionevole l'apporto di nuovi mezzi il che significa che praticamente però si parla di grave squilibrio attenzione e questo ci porta a dire una cosa che non qualsiasi potesi di squilibrio patrimoniale finanziario di per sé è segno di immersione della crisi ricordiamo tanto per dirne una che per quanto riguarda le società per azioni le società per azioni si possono indebitare ricorrendo al mercato del capitale di rischio cioè mettendo prestiti obbligazionari nel momento in cui si sono fino a quando il valore delle obbligazioni emesso è fino al doppio del patrimonio netto sostanzialmente il che significa che c'è uno squilibrio di carattere patrimoniale che è pur sempre tollerato e cioè sostanzialmente uno squilibrio tra mezzi propri e indebitamento mediante ricorso al mercato del capitale di rischio tra l'altro in una situazione in cui c'è una forte esigenza di protezione degli obbligazionisti in quanto creditori deboli perché evidentemente gli obbligazionisti non sono le banche ebbene c'è un forte squilibrio che purtuttavia è tollerato e reso accettabile dal sistema quindi questo lo squilibrio in quanto tale non è ancora un parametro di immersione della crisi ma se diventa un forte squilibrio lo può essere può essere un parametro ancora ricordo che anche nelle cooperative per esempio addirittura lo squilibrio tra mezzi propri e ricorso tra mezzi propri e ricorso all'indebitamento può essere addirittura nel rapporto di 1 a 4 e nel rapporto ancora accettabile perché la cooperativa possa distribuire dei risorni ai soci quindi vedete che ci sono anche degli squilibri che sono tollerabili ma probabilmente dei buoni parametri sono proprio quelli cui faceva riferimento il presidente Panzani che ci vengono dalle cosiddette regole di Basilea soprattutto di Basilea 2 e di Basilea 3 regole dettate sicuramente appunto per misurare il merito creditizio e che quindi possono misurare sicuramente anche la responsabilità della banca che concede credito in assenza di queste regole ma al tempo stesso possono altresì misurare in termini più o meno oggettivi la capacità di un'impresa di ricorrere al credito e siccome tra queste regole poi ci sono delle formulette che mi sono sempre rifiutato di imparare a memoria perché non sono un tecnico ma che sostanzialmente considerano il patrimonio di partenza dell'impresa sociale come una sorta di leva per ricorso al credito della serie se l'imprenditore o se la società non ha sufficientemente immesso mezzi propri nel proprio patrimonio perché dovrebbe ricorrere alle banche se i soci stessi non credono alla gestione non credono praticamente al merito creditizio della propria impresa tant'è vero che non mettono soldi e quindi per esempio un'impresa che sia un'impresa sociale che sia fortemente sottopatrimonializzata probabilmente è un'impresa dove questa situazione di crisi emerge e allora indipendentemente poi dall'atteggiamento delle banche che può essere più o meno consapevole e soprattutto più o meno colpevole ci possono essere anche dei parametri oggettivi per verificare quando un'impresa sia o meno diciamo meritevole di ricorrere al credito e quindi quando emergano meno quegli indici di allerta che impongono agli amministratori di attivarsi ancora qualche minuto se ne è così ah sì sì sto ancora vabbè ancora a questo riguardo ma la business judgment rule ecco che è stata prima evocata da quanto sto dicendo emerge evidentemente che ci sono dei parametri che gli amministratori devono rispettare e la business judgment rule è stata considerata anche nelle sentenze citate prima dal presidente Panzani come una sorta di regola di essenzione da responsabilità e quindi sostanzialmente come una sorta di zona franca all'interno della quale nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale praticamente i comportamenti possino essere dagli amministratori non sono sindacabili però tenete presente che ci sono stati anche di recente delle prese di posizione importanti una ma tanto per citarne alcuna il presidente Bozza che è stato anche qui relatore nel convegno internazionale insieme anche tra l'altro al presidente Panzani se mi ricordo o ancora il professor Nigro i quali hanno detto ma attenzione e questa business judgment rule non è soltanto una regola di essenzione è anche una regola di limitazione della discrezionalità cioè per certi versi è una regola che funziona a doppio taglio in altre parole non vuol dire che gli amministratori abbiano un'autonomia imprenditoriale pressoché diciamo insinnacabile vuol dire che gli amministratori devono seguire delle regole di ragionevolezza e devono seguire delle regole di ragionevolezza queste regole di ragionevolezza tra l'altro si vanno a riempire appunto di un contenuto più pregnante nel momento in cui l'impresa è in crisi perché sicuramente emerge la necessità di rispettare determinati parametri fosse pure quelli per misurare la meritevolezza creditizia di una impresa questo principio di ragionevolezza per esempio è previsto è anche dettato dall'articolo 2467 del codice civile quando si dice si prevede la postergazione dei finanziamenti dei soci in quelle situazioni di squilibrio patrimoniale o finanziario in cui sarebbe stato ragionevole attendersi una ricapitalizzazione e quindi evidentemente la ricapitalizzazione è ragionevole il finanziamento da parte dei soci a titolo di prestito di soldi con obbligo di rimborso evidentemente non è ragionevole ma vedete questo parametro di ragionevolezza è un parametro che finisce forse per condizionare o per misurare anche gli eventuali profili di responsabilità degli amministratori sotto quale aspetto? Per esempio Bozza in un lavoro pubblicato di recente mi pare sul fallimento vado a memoria dà delle indicazioni e dice ma tenete presente che gli amministratori devono porre in essere la dirigenza richiesta dalla natura dell'incarico e la natura dell'incarico non consiste soltanto il tipo di attività esercitata dalla società o la stessa struttura societaria prescelta sicuramente la dirigenza per richieste per gestire una società quotata può essere più elevata che non per gestire un SRL ma anche forse dalla natura dell'incarico rivestito dai singoli amministratori e quindi la responsabilità attenzione viene ad essere graduata sulla base del ruolo esecutivo non esecutivo che gli amministratori rivestono e quindi praticamente c'è la possibilità di parametrare il grado di diligenza richiesto e quindi la responsabilità in base al ruolo e probabilmente anche in base alla situazione in cui versa la società situazione che si traduce secondo questi autori che ho citato nell'obbligo poi anche di un'adeguata istruttoria perché gli amministratori potrebbero non avere le nozioni per poter affrontare e gestire una crisi di impresa ma potrebbero invece fare ricorso a elementi a approfondimenti studi e professionalità esterne per supplire a quel quantum di conoscenze che appunto magari a loro mancano qual è l'idea alla fine che emerge da tutta questa disciplina e l'idea che emerge da tutta questa disciplina è che i parametri che gli strumenti di recupero dei valori aziendali e di una crisi di impresa ci sono ma devono essere strumenti nell'ambito di un piano trasparente meglio se sotto ovviamente omologato dal tribunale e comunque condiviso dal ceto creditorio in altre parole come diceva anche prima Luciano Panzani e sicuramente gli amministratori che si attivano si attivano per presentare una proposta di concordato preventivo oppure un accordo di ristrutturazione del debito e quindi per un progetto di recupero che è un progetto di recupero trasparente e condiviso forse non incorrono in responsabilità da questo punto di vista e ancora un altro aspetto la società sottocapitalizzata noi abbiamo una norma all'articolo 182 sexies che come noto sospende gli obblighi di ricapitalizzare la società pur ricorrendo i presupposti per una riduzione per perdite oppure un alzeramento del capitale quando la società va in concordato preventivo o presenta un accordo di ristrutturazione del debito regola che probabilmente si applica anche quando la società presenta una proposta di preconcordato questo non vuol dire attenzione sanare situazioni di responsabilità pregresse penso che su questo siamo tutti quanti d'accordo ma significa che anche se la giustificazione tecnica di questa norma è che all'esito della procedura concordataria il patrimonio netto potrebbe magari risultare di segno positivo se si realizza una certa falcidia concorsuale e però non vi è dubbio che quello che interessa qui in questa sede è che se c'è un progetto di salvataggio condiviso vi è una sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione ma purché appunto il diciamo tutto quanto avvenga sotto il controllo dei creditori e del tribunale il che ancora significa oltretutto che quello che interessa che di per sé la semplice sottocapitalizzazione di per sé può essere o non può essere un indice di responsabilità ma sicuramente lo diventa nel momento in cui uno non si attiva per poter attuare un'operazione di salvataggio mi diverto sempre a citare un bellissimo passo di Tucidide e quando Tucidide fa dire nell'orazione che Tucidide fa pronunciare a Pericle alla fine del primo anno della guerra del Peloponneso la cosiddetta orazione del ceramico quando di fronte ai diciamo al al popolo di Atene schierato in questa orazione funebre Tucidide esalta il genio attico e a un certo punto dice una cosa molto bella che funziona anche i giorni nostri cioè dice attenzione non tanto ci dobbiamo vergognare della povertà quanto ci dobbiamo vergognare del fatto che siamo poveri e non facciamo nulla per tirarcene fuori da questo punto di vista ho come l'impressione che questo tipo di segnale sia evidentemente recepito dal nostro legislatore e chiudo qui veramente tra l'altro anche con un'altra battuta ed è questa anzi due scusate problema della danno il danno causato dai il danno causato dagli amministratori la disciplina della responsabilità degli amministratori nei confronti della società e nei confronti dei creditori è richiamata espressamente dall'articolo 2394 bis e poi dal 146 della legge fallimentare come praticamente in sede come punto di legittimazione del curatore ma qual è il danno effettivamente poi c'è anche un altro richiamo all'azione di responsabilità dei gruppi di cui parlerà Francesco Fimmano e qual è il danno effettivamente causato dall'azione degli amministratori ma lo stesso discorso potrebbe essere poi quello diciamo anche a proposito della responsabilità delle banche il tema che è stato affrontato prima e i tedeschi hanno fatto una classificazione molto interessante hanno diviso tra responsabilità degli amministratori verso la società per lesione patrimoniale la cosiddetta innerhaftung poi per quanto riguarda la responsabilità verso i creditori hanno diviso hanno tra la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori che sono antecedenti alla loro diciamo al fatto lesivo e quindi i cosiddetti alt-groibiger letteralmente vecchi creditori dove il danno è da ravvisare nella lesione della percentuale di riparto che sarebbe loro aspettata mentre per quanto riguarda i creditori successivi il danno è invece da ravvisare nella lesione della libertà di determinazione perché hanno fatto affidamento su una situazione florida che florida non ira qual è la differenza che nelle prime due ipotesi il danno è un danno patrimoniale e i creditori ne risentono soltanto indirettamente quindi i creditori intanto sono danneggiati perché c'è stata una lesione al patrimonio della società quindi tra l'altro c'è anche la legittimazione del curatore nell'ultima ipotesi invece il danno è soltanto diretto e cioè praticamente è un danno che i creditori come nel caso citato della concessione abusiva di credito hanno risentito per aver fatto incolpevole affidamento sull'assolvibilità di una impresa quindi diciamo qui abbiamo una fotografia che per certi versi in teoria potrebbe funzionare anche da noi se non che da noi l'articolo 2394 e 2394 bis non che il 146 configurano tutto come una lesione di carattere patrimoniale quindi la tutela dei creditori è indiretta mentre la tutela diretta dei creditori e cioè è quella per aver fatto incolpevole affidamento nell'assolvibilità di un'impresa è fuori dalle azioni che deve promuovere il curatore perché l'articolo 2395 non è tra le norme richiamate né dal codice civile né dalla legge fallimentare e poi chiudo veramente vi chiedo scusa perché ho un pochettino abusato parlavo del principio di ragionevolezza il principio di ragionevolezza evidentemente evoca appunto delle regole in qualche modo oggettive che mi rendo conto nella pratica possano essere un po' più diciamo complesse da rispettare e soprattutto da far rispettare ho fatto qualche maldestro tentativo ma mi piace citare poi una frase di Sant'Agostino poi ripresa da d'Alessandro Nigro quando distingue tra ciò che è razionale e ciò che è ragionevole e c'è razionale e quod utitur razione razionabile cioè ragionevole quod razione agitur omnes homines sunt razionales sed non omnes sunt razionabiles noi evidentemente quando parliamo di responsabilità degli amministratori ci dobbiamo muovere nell'ambito di ciò che è razionabile e cioè nell'ambito della ragionevolezza scusate per la lunghezza e vi ringrazio per l'attenzione grazie al professor Giannelli perché devo dire ha costruito un monumento un monumento compiuto e spero che sia stato anche registrato perché varrebbe veramente la pena di di stamparlo direi ecco questo è il punto fondamentale che vedo che va percepito non si può parlare di responsabilità degli amministratori nell'ambito di un piano per la ristrutturazione se questo piano è un piano in ultime parole no? di ragionevole quello che non è l'esalta traduzione in termini letterali ma il concetto del fair and equitable degli americani quindi equo per tutti quanti e corretto corretto vuole anche dire non è il libro dei sogni quindi i professionisti che questo è un punto sul quale bisogna insistere i professionisti che consigliano ai loro clienti di presentare comunque la domanda di concordato in bianco perché così si guadagna tempo e poi si vedrà non vanno nella direzione giusta perché fanno rischiare ai loro clienti una responsabilità sicuramente di carattere civilistico ma anche di carattere penale perché la responsabilità per bancarotta semplice deriva dall'aggravamento del dissesto e se c'è consapevolezza di ciò c'è anche il concorso del professionista quindi è un discorso che va tenuto presente io mi auguro che questa brutta moda che ha portato alla modifica delle norme ma ha portato anche a richiedere di fare un passo indietro e di tornare a una legge fallimentare ormai superata e passata figlia di un tempo che non è più quindi ha portato danni di tutti i generi questa brutta moda si sia conclusa a questo punto tu mi chiedi qualcosa sì mi fai grazie voglio dire voglio ringraziare entrambi perché ho avuto modo veramente di prendere pagine di appunti su quello che voi avete detto a proposito di monumenti e anche per coordinare un attimo le tempistiche che sono proprio di questo tipo di corso noi in genere 17 e 15 17 e 20 andiamo in pausa per 20 minuti e sono le 17 e quindi il professor Fimanò in 15 minuti non possiamo tenerlo io lo lascerei veramente non lo possiamo sprecare per 15 minuti io lo tengo per tutto il secondo tempo perché veramente me lo gioco alla grande quindi ma a parte le metafore solitamente calcistiche utilizzerei questi 10 minuti perché alla luce di quello che voi avete in maniera puntuale esposto e detto è quello che dicevi da ultimo tu Luciano circa proprio la misura della figura dell'importanza del professionista perché loro parliamo a loro nella duplice veste di curatore e di professionista che attesta il piano nella zona ombra della crisi e quindi delle responsabilità poi degli amministratori che gestiscono male questo momento di crisi con l'ausilio del professionista beh evidentemente io volevo porre a entrambi un po' di domande o un po' di dubbi che mi sono venuti ecco per esempio il problema che è la responsabilità dei rapporti con le banche probabilmente importante tu l'hai già accennato è il rapporto con il 182 quadre e il 182 quinques cioè nei momenti gestori della crisi un professionista avveduto o un amministratore avveduto può utilizzare benissimo gli strumenti che il legislatore gli ha dato che è quello appunto dell'ottenere a la prededucibilità e quindi un avallo preventivo da parte del controllo del tribunale che quindi diciamo che nell'ambito della reggione golezza che Gianvito esponeva prima è una sorta di clausola assicurativa in bianco cioè se c'è già un avallo del tribunale preventivo sulla prededucibilità del finanziamento beh evidentemente c'è un controllo a monte circa la necessarietà e l'importanza di quel finanziamento finalizzato al superamento gestore della crisi e quindi l'eventuale successivo dichiarazione di fallimento o qua dove il curatore dovrà trovarsi poi a verificare se c'è un aggravamento dello stato di crisi può essere appunto salvaguardato da questo tipo di problema per esempio il 182 qui in questo è fondamentale perché il debitore che presenta il piano tu parlavi del piano con riserve di produzione della documentazione può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili laddove vi sia il famoso professionista che verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione la cosiddetta finanza ponte a cui facevi riferimento attesta che i tali finanziamenti sono funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori Stella Polare che ritorna e passo alla seconda domanda poi a Gianvito per l'amministratore che deve gestire bene anche con la continuità aziendale perché il problema non è tanto la società in liquidazione quanto la società che continua a lavorare e che quindi ha la continuità aziendale ritorna anche lì il professionista che dice che il piano deve essere tanto articolato da prevedere costi ricavi attesi alla prosecuzione dell'attività d'impresa laddove la relazione del professionista che è la clausola di salvaguardia B del 186b si dice deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista da un piano di concordato sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori e allora che cosa voglio dire supposto che il curatore vada al suo giudice delegato e dice dottore dobbiamo fare un'azione di responsabilità e un giudice delegato che si mette in contatto mentale col suo curatore dice verifichiamo la ricorrenza dei presupposti 2392-93 e quant'altro per le attività di malagestio antecedenti al momento gestore della crisi poi ci siamo soffermati sul momento della finanza e sul momento delle responsabilità nell'epoca gestore della crisi e allora sul presupposto che non ci dovrebbero essere grossi problemi nell'individuazione delle condotte di responsabilità antecedenti o risalenti nel tempo laddove documentato ovviamente dai verbali dei consigli di amministrazione omesso controllo dei sindaci e quant'altro cose che noi tutti conosciamo per quello che invece riguarda al campo da arare come dicevi tu del novum della gestione della crisi quanto e che incidenza può avere e qui è importante la funzione del professionista prima di entrare in campo come consigliori come davvero consigliere del consiglio di amministratore dell'imprenditore nell'ambito della gestione o nell'ambito del ricorso al finanziamento perché il finanziamento è indispensabile per superare quella crisi finanziaria per cercare di uscire dalla crisi cioè la domanda è o le domande sono non reputate che a questo in questo punto poi quando si arriverà al fallimento successivo il curatore dovrà anche verificare scandagliando il campo che tipo di attività se c'è al di là della normale media soglia di attendibilità della condotta l'imprenditore ha fatto apposto in essere con il consiglio del suo advisor o del suo consulente che avrebbe dovuto probabilmente consigliarlo prima o non consigliarlo affatto allora comincio a tentare di rispondere a queste terribili domande in teoria il presidente Monteleone ha dettato un quadro perfetto nel senso che l'imprenditore deve proseguire l'attività cosa fa presenta una domanda di concordato in bianco chiede l'autorizzazione al tribunale gli viene concessa perché nell'interesse dei creditori per il miglior soddisfacimento dei creditori l'attestatore non ha grosse difficoltà da attestare perché l'impresa in continuità vale di più della somma degli elementi che la compongono per di più le imprese oggi sono fatte per lo più di beni immateriali soprattutto l'avviamento e quindi se si ferma sparisce e di conseguenza è nell'interesse di tutti proseguire questa è la teoria poi viene la pratica la pratica è intanto l'atteggiamento di alcuni tribunali io mi auguro che le cose stiano cambiando ma c'è stato uno dei più importanti tribunali italiani che ha professato la teoria che non ci poteva essere l'approvazione di atti di straordinaria amministrazione finanziamenti eccetera senza il piano e allora arriviamo a una sorta di comma 22 nel senso che se io devo presentare il piano ma per presentare il piano ho bisogno di uno spazio di tempo e in questo spazio di tempo devo campare con un finanziamento e questo finanziamento non lo posso ottenere perché ancora non ho presentato il piano non ci arrivo quindi bisogna che ci sia collaborazione tra il tribunale tra il giudice e l'impresa e i suoi professionisti per la realizzazione di un obiettivo comune questo comporta una discovery da parte dell'imprenditore su quello che sarà il contenuto del piano perché poi non è che questo piano possa avere chissà quali contenuti diversi ma o almeno alcuni punti di riferimento fin dal principio dovranno essere indicati e prima cosa seconda cosa non basta questo perché in molte situazioni i condizionamenti sono di tipo esterno in altri termini sappiamo che l'advisor nella maggior parte dei casi non se lo sceglie l'imprenditore gli viene suggerito dalle banche le quali banche quando va bene ti dicono scegli trattizio caio sempronio e noi ti indichiamo in sostanza il consulente che ti guiderà nella redazione del piano il piccolo particolare che lo paghi tu e allora in questa fase delle trattative in cui il sistema bancario si presenta in ordine sparso e è già difficile riuscire a organizzare un incontro con tutti i soggetti interessati e c'è qualche banca che corre a chiedere decreto ingiuntivo e scrivere ipoteca diventa anche difficile presentare una domanda di concordato in bianco perché il termine se ci sono le istanze di fallimento è di 60 giorni se non ci sono le istanze di fallimento è di 120 ma comunque è un termine che si corre in fretta in certe situazioni può persino essere più conveniente dire ma c'è distanza di fallimento non presentiamo nessuna domanda andiamo da giudice il giorno dell'udienza intanto 60 giorni passano solo per la notifica e la fissazione dell'udienza poi all'udienza chiederemo un rinvio lo chiediamo di 6 mesi probabilmente ci viene dato e ci conviene di più quindi in queste condizioni dove però l'esigenza di andare avanti di pagare i dipendenti di continuare a pagare i fornitori almeno quelli strategici o in qualche misura c'è lo stesso è chiaro che ci vuole qualcuno che ti supporti normalmente chi è che ti supporta è la banca con cui hai sempre operato e che è la più esposta e che ha interesse a proseguire a finanziarti per poi recuperare almeno una parte del debito che si è accumulato in queste condizioni c'è quello che io chiamavo prima la finanza ponte ma proprio nel senso che è un ponte verso l'apertura della procedura e da questo punto di vista questa finanza non è certamente assistita da prededuzione e rappresenta un rischio un rischio sia per l'imprenditore che prosegue l'attività e sta cercando una soluzione sia per la banca che accetta di finanziare di erogare finanziamenti è chiaro che se poi la finanza nuova viene costruita attraverso giri di cambiali titoli di favore eccetera eccetera allora a questo punto la responsabilità è assolutamente pacifica quindi io vedo questo problema la seconda domanda mi sono già dimenticato qual era in questo lungo escursus la seconda domanda era proprio dell'azione ancora del ponte che tu dicevi perché molte volte non deve essere utilizzato necessariamente l'intervento preventivo del tribunale scusate non accesso il microfono non è necessario l'intervento proprio preventivo dell'autorizzazione del tribunale che giustifica a questo punto la prededucibilità ma probabilmente hai risposto incidendo tanto un primo dicendo che alcuni tribunali chiudono la porta ancora prima di aprirla quindi la partita è chiusa ancora prima di giocare ecco un altro elemento che può incidere in questo tipo di vicende è l'atteggiamento del tribunale sul sul crediti dei professionisti perché alcuni tribunali sono più rigidi e quindi non riconoscono la prededuzione o comunque non autorizzano il pagamento se non a babbo morto cioè avvenuta presentazione del piano addirittura omologa del procedimento e quindi è chiaro che in queste condizioni ci saranno i professionisti che diranno al cliente aspetta intanto pagami e magari pagami con una società terza quindi sono poi queste circostanze che hanno un peso rilevante senza poter essere codificate direi che c'è necessità forse io anzi me ne vado convincendo sempre di più noi abbiamo molto discusso in Italia sull'introduzione delle procedure d'allerta ed è un sistema d'allerta che comporti l'intervento d'ufficio dal tribunale come in Francia è molto osteggiato da Confindustria che teme una sorta di controllo pubblico dell'economia attraverso il giudice ma quello che ci è sfuggito che è molto più importante delle procedure d'allerta in Francia è la procedura di conciliazione la nomina del cosiddetto mandata era doc cioè di un soggetto che è nominato dal tribunale come soggetto che favorisce la composizione della crisi operando nell'interesse sia dell'imprenditore sia dei creditori ma con un incarico che viene dal giudice quindi un incarico per cui opera come pubblico ufficiale e al giudice riferisce ecco questo soggetto può essere quel facilitatore che può portare a una maggior comprensione anche da parte del giudice perché a questo punto il giudice non si fida dell'attestatore ma si può fidare di un conciliatore che lui stesso ha nominato e forse l'anello che manca diciamo nello strumentario che noi abbiamo a disposizione è una domanda veramente terribile provo a rispondere soprattutto sulla seconda innanzitutto sì è vero il tema la finanza ponte non è tutelata evidentemente si potrebbe individuare una tutela nel 182 quattro quando si parla di finanziamenti erogati in funzione di una presentazione della proposta di concordato fermo restando che poi la predilisibilità deve pur sempre essere riconosciuta dal tribunale con una valutazione ex post nel provvedimento di ammissione o nella omologazione quindi le banche che danno credito in questa fase evidentemente si trovano in qualche misura scoperte per quella che la mia limitata esperienza qua c'è una peculiarità per la verità tutta barese non solo barese ma insomma ve lo racconto come tale cioè situazioni in cui alcune imprese a carattere societario hanno avuto le quote sotto sequestro da parte della magistratura penale per problemi di presunte infiltrazioni o quant'altro e le banche che magari prima avevano erogato anche con una certa liberalità delle linee di credito quando arriva il sequestro penale giusto per non sbagliare revocano i finanziamenti così che praticamente esponendosi da una parte al rischio di essere attaccate voi per concessione abusiva di credito perché prima hanno dato hanno erogato finanziamenti magari non sempre c'erano i presupposti e poi perché hanno interrotto abusivamente le linee di credito in almeno una situazione che mi è capitata così di gestire anche recentemente in questo caso però ero dalla parte di una piccola banca qual è stata la soluzione la banca aveva revocato le linee di credito e però qualche problema probabilmente lo teneva ha riattivato le linee di credito sotto forma di finanziaponte e i sensi del 182 quater naturalmente tutto questo subiudice naturalmente poi del riconoscimento esposto da parte del tribunale però almeno un minimo però è stato fatto nell'ambito di un discorso di natura transattiva dove l'amministrazione della società che era perché c'era un amministratore di diritto privato ma pur sempre nominato la custora giudiziario delle quote quindi sequestratario e quindi espressione sostanzialmente nominato dal GIP in quel caso praticamente aveva con tutte le autorizzazioni penali non si sa fino a che punto valide ma poi si sa che la magistratura penale è abbastanza come dire è concreta ma insomma se ne va un po' per conto suo e praticamente comunque aveva rinunciato a questa azione di responsabilità quindi la banca ha avuto buon gioco a diciamo erogare questa finanza che tra l'altro era però va anche detto finanza autoliquidante perché praticamente era sostanzialmente anticipazione su fatture che di volta in volta la cui cessione veniva accettata da parte di una ASL ciò premesso però naturalmente il problema menzionato sicuramente c'è anche se il nostro tribunale anche quando c'era Michele Monteleone è sempre stato un tribunale abbastanza concreto nel gestire questo tipo di situazioni in generale laddove ci sia una diciamo dei flussi di cassa molto spesso autoliquidanti per esempio o crediti da riscuotere nei confronti delle pubbliche amministrazioni quindi situazioni di questo tipo e quindi sostanzialmente diciamo l'erogazione da parte della banca in realtà della finanza serve soltanto a facilitare l'accesso al credito ma in realtà ad anticipare il momento dell'erogazione e almeno da questo punto di vista con relativa tranquillità sicuramente la cosa si può fare però effettivamente sì diciamo molto spesso i professionisti da una parte le banche e dall'altra parte si trovano a camminare senza la protezione del tribunale ma io personalmente preferisco avere a che fare con una società che sta già sotto e che è già entrata in procedura sia pure con la proposta in bianco perché quantomeno io so che per non sbagliare come si usa ora all'irà di quello che noi possiamo scrivere studiare o raccontare anche nell'area universitaria però lo sa pure Francesco uno per non sbagliare va dal giudice e dice scusa che si dice qui e voi qua come fate e quindi questo è il problema è in quella fase d'ombra quando ancora non si è aperta la procedura perché non abbiamo un punto di riferimento e probabilmente e concludiamo è quello che diceva Luciano poco fa cioè l'anticipazione degli strumenti di allerta che è quello del conciliatore in Francia ma che dovrebbe essere la figura del commissario giudiziale concordato con prenotativo dalla facoltà all'imprenditore e al professionista e quindi alle banche con un accesso di preducibilità controllata a monte laddove si dovesse ampliare quel terreno di gioco perché più prima entra in gioco il vincolo e il controllo del tribunale maggiore garanzia dà a tutti perché qualunque atto col 161 settimo comma di straordinaria amministrazione o di ordinaria amministrazione legalmente compiuto quel legalmente compiuto è la chiave di volta perché ovviamente il legislatore ci ha detto che gli amministratori e i professionisti devono porre tutto in essere purché sia o legalmente compiuto e se fosse di straordinaria amministrazione controllato al tribunale perché evidentemente l'anticipo del controllo dà quella garanzia prospettica di attuazione di una gestione di crisi che ha avuto il controllo di un organo nominato già dal tribunale e del tribunale medesimo a proposito di quello che dicevi correttamente tu sul piano attestato a me è successo un 14 agosto del 2008 che non ho mai più dimenticato come dato un po' perché era il 14 agosto un po' perché era il 2008 un po' perché io presiedevo la feriale ma a Bari la potevo presiedere solo il 14 agosto del 2008 laddove una grossissima impresa con oltre 300 dipendenti era stata costretta dalla banca a far sì che fosse il tribunale a nominare il professionista che gli attestasse quel piano del 67 lettera D e io fui costretto quel pomeriggio finì tardissimo con la Camera di Consiglio con due colleghi che non erano specializzati nel campo fallimentare quindi costretto a spiegare loro che cosa stavamo facendo perché ovviamente il provvedimento era collegiale ad applicare un vecchio articolo 29 rito societario poi per fortuna abrogato perché quel rito societario era una cosa terrificante che finché le carte arrivavano davanti al giudice passavano 222 giorni facciamo il conto quindi tutti si palleggiavano di tutto e noi stavamo lì ad aspettare dopo 222 giorni in 15 giorni mi scrivo la sentenza 222 giorni a discutere ma c'era quel rito monocratico dell'articolo 29 che dava la possibilità al tribunale applicando la norma della fusione societaria del 2501 che io interpretai in via estensiva per far sì che unico provvedimento distrutto ovviamente da tutta la giusprudenza da tutta la dottrina da tutti i critici perché mi diceva tu se non sei fuori pubblicato sul falimento e stracciato successivamente ma quel provvedimento ha consentito a proposito di quello che dicevi tu prima di un'attuazione concreta e pratica del dettato normativo di salvare 300 dipendenti perché oggi so che quell'azienda è ancora in vita e grazie a quella nomina di quell'attestatore venne sottoscritto quel piano attestato perché la banca poiché nominato quell'attestatore da un terzo cioè dal tribunale prova provata dell'anticipazione della soglia dell'intervento del controllo che dà garanzia ai creditori alle banche e che protegge perché no sia il professionista che il debitore in crisi è stato possibile portare a casa quel risultato perché quell'impresa che io sappia dal 2008 oggi è ancora in vita e ha salvato dei livelli occupazionali e quindi ha portato per quanto mi rendo conto che quella norma non poteva e non doveva probabilmente essere interpretata in quel modo ma una forzatura del dettato normativo in via analogica di stretta analogia dell'articolo 29 del rito societario ha consentito di raggiungere quell'effetto allora ci fermiamo no un attimo solo perché è importante anche noi per esigenze professionali oltre che di viaggio il presidente Panzani ci lascerà alle 18 perché abbiamo raggiunto questo accordo in via transattiva e ovviamente noi avremmo voluto tenerlo qui sempre perché come vedete è un piacere averlo allora abbiamo un quarto d'ora di pausa non più di un quarto d'ora perché il secondo tempo si presenta altrettanto scoppiettante tutti con gli impermeabili perché prevediamo una pioggia di golle tra che la parola al professor Firmanò grazie grazie allora io in realtà diciamo sono di casa quindi saluto tutti gli amici beneventani ma non per piageria devo dire una cosa una riflessione proprio personale che tra l'altro non riguarda in particolare Michele Monteleone ma lo spirito di tutto questo che vedo lui sta facendo qua che mi è molto caro questo tipo di spirito perché il mio fratello maggiore il professor Giannelli ha ricordato che io sono all'ivo del professor Minervini e quando il mio maestro ormai parte che era andato a Roma poi è andato in pensione io in realtà sono stato messo in colonia penale salvo scoprire colonia penale da noi si intende quando le nostre università case madri in realtà diciamo ci mandano un po' in giro e che è stata la più grande fortuna della mia vita perché ho vissuto tante realtà come questa dove è accaduto quello che perciò lo trovo molto mio questa vicenda oggi ho visto questa cosa bellissima che è questa cosa fatta dal vedo il presidente Monteleone schernirsi facendo finta di vedere il telefonino ma è una cosa bellissima che io ho già messo in borsa ringrazio perché questo è un dettaglio ho visto bellissima realizzazione con l'ordine con il lavoro di tutti quanti questa è una cosa così a Roma a Napoli a Torino a Milano non si può fare cioè nel senso che ci sono le grandi autorevoli magistrate ma questo spirito per cui all'improvviso arriva una persona che infonde passione emozione in quello che si fa non può accadere e per cui voi tenete adesso il tipo Adel Benevento che all'improvviso da qualche anno è presente su tutte le riviste con questo grande impegno questo grande interesse questa è una cosa bella ma al di là di chi la fa ed è una cosa di cui in realtà ripeto ho apprezzato e nel mio girovagare in molte città io peraltro sono un provinciale anche di oltre che di nascita anche di vita perché io sono di un paese vicino a Fratta vicino a Napoli che si chiama Fratta Maggiore noto oggi perché aver dato i Natali a Insigne ma che in genere io dico quando mi dico questo lei è di Napoli io dico sono di Fratta Maggiore volevo essere di Fratta Minore ma non mi è riuscito allora si ha grandi arbitri di Fratta Maggiore c'era Marchese c'era Pezzella si grandi arbitri allora approfitto prima di avere l'onore di avere presente il Presidente Panzani ma per esempio faccio un esempio scusatemi che torno sull'organizzazione di oggi abbiamo visto un corso pazzesco praticamente il Presidente Panzani mi fa venire chiunque ma basta guardare oggi in realtà adesso al di là della mia presenza che è familiare e locale per cui ma il Presidente Panzani che è pressoché oltre che la seconda carica diciamo giurisdizionale italiana e non sto scherzando nonostante la sua diciamo e per ragioni che noi sappiamo gli ho fatto vedere il cornet ma seconda carica resta in realtà è tra l'altro giovanissimo a questa seconda carica ed ha in effetti anche lui un esempio di grandissima passione e di iperattività io ho l'onore di leggerlo da quando diciamo ero ragazzino lui è ancora giovane oggettivamente per la carica che riveste ma il il professor Giannelli non vuole essere una sviolinata il professor Giannelli addirittura voglio dire mi ha fatto pressoché da precettore nel mio dottorato di ricerca anche lui è giovane ma all'epoca aveva già scritto era già ricercatore ed aveva già scritto il suo bellissimo libro sull'opzione in diretta ma mi direte ma allora Bottai è il fesso della situazione no perché vi racconto sta cosa no è perché vi racconto sta cosa no e ve la devo dire perché è bello e poi entriamo al merito l'avvocato Bottai che forse è meno noto diciamo ai presenti in realtà è il vero malato tra tutti noi perché perché qualche anno fa io lo stimo ma non scherzo da molti anni un anno fa incontrai questo avvocato romano che sapeva tutto quello che riguardava il diritto falle ma tutto cioè io ricordavo più di me le note dei miei scritti allora il primo pensavo che fosse un mio stalker invece no sapeva di tutto di tutto mentre noi che siamo abbastanza malati quello che facciamo ogni tanto facciamo altre cose lui no ma solo questo quindi la lungimiranza del presidente Monteleone che evidentemente è profondo conoscitore levata i ervino come si dice allora andiamo al tema un passaggio sulle banche che poi riguarderà un po' il tema della mia relazione allora sulle banche io voglio dire due cose rispetto a quello che il presidente Panzani ha detto questo in negativo la mia esperienza dei piani di risanamento io faccio una premessa come tipo Fede che dice io sto con Berlusconi cioè io sto tendenzialmente contro le banche però devo dire che al di là di questa tendenziale contrarietà alle banche io ho visto non tanto nel sud ma soprattutto nel centro nord Italia dei piani di risanamento realizzati con delle tecniche che chiamare moral suasion è un errore perché moral suasion sarebbe indirizzato a garantire i propri interessi invece ho visto ma decine di operazioni su vicende clamorose dove in realtà c'è sostanzialmente una diciamo riscoperta di metodi usurari realizzati attraverso professionisti messi in una busta chiusa che sono sindaci amministratori attestatori che è una cosa vergognosa oggi io parlerò del tema dell'eterodirezione che è un tema dove il legislatore italiano ha finalmente accolto la famosa equazione informazione e responsabilità io uso dire quando un assistito mi dice guardi ma qua si può fare l'affitto di aziende io metto mio figlio guardate se voi volete fare cose del genere dovete dire sono io sono io perché in realtà se le banche pur scottate dalla crisi del 29 e pur scottate dalla fine della banca polifunzionale devono avere il coraggio se fanno piani risonamenti interventi nell'economia di metterci nomino io l'amministratore nomino io il collegio sindacale nomino io il direttore generale e se ne prendono le relative responsabilità perché è intollerabile che questo avviene attraverso queste cose nell'orecchio che hanno poi si riverberano in compensi pazzeschi ho visto le società pagare a pseudo attestatori pseudo professionisti mai sentiti peraltro non che debba rivolgersi all'avvocato Bottai perché ha fatto fallimentare dopo quando ne aveva dieci anni come vi ho detto c'era questo problema ma in realtà com'è possibile mi sembrano le galapagos sa come ci stanno quei varano di comodo professionisti mai visti mai visti in realtà con situazioni nelle quali c'è una chiara situazione di abuso del dominio e infatti oggi la relazione è basata sulla netta differenziazione tra il concetto di gruppo il concetto di controllo il concetto di eterodirezione e il concetto di dominio io ho avuto l'onore che un'espressione che usai qualche anno fa diciamo richiamava un po' che si chiamava l'articolo dal socio tiranno al dominus abusivo e questa è stata ripresa e lui lo ringrazio dal presidente Vanzani alcuni suoi bellissimi saggi sulla stessa materia perché lui è anche uno studioso di questo tema di cui stiamo parlando però voglio dirvi questo è un profilo che riguarda l'atteggiamento delle bianche nei piani di risanamento che potrei fare nomi e cognomi di vicende ma non lo faccio di vicende che sono davvero clamorose ma queste sono le migliori delle ipotesi perché questi piani di risanamento poi una cosa non va bene e rifacciamo un secondo attestatore poi un terzo quindi ho visto vicende dove credetemi vi do numeri e poi possiamo sono disposto a metterle anche sul giornale in cui sono stati dati nell'ambito del piano di risanamento tipo 30 milioni di euro in cui credetemi 11-12 sono stati spesi per queste cose 11-12 non un milione o due milioni 11-12 milioni e in realtà se qualcuno è in grado di smentirmi in vicende obiettivamente sono pronto ad accettare secondo problema invece interessante riguarda il profilo penalistico io negli ultimi anni sono molto attento al profilo penalistico perché ritengo che l'asse dell'ordinamento si sta spostando verso il profilo penalistico per un motivo molto semplice non perché i magistrati entrano a gamba tesa se sciocchezze di questo tipo IPM o cose del genere i magistrati entrano a gamba tesa talvolta perché purtroppo devono fare un mestiere che non è loro vedi non so vicende della società pubblica dove Rordorf è criticato da tutti ma ha fatto una sentenza perché non ce la faceva più a vedere il legislatore italiano che non voleva prendere provvedimenti per arginare quella cosa disgustosa degli amministratori di società pubblica a cui destra, sinistra o centro che vengono dopo non fanno le azioni di responsabilità e la verità da questo punto di vista è che questo asse si sposta perché quando il sistema italiano bene o male che fa passa dal modello per così dire della tutela reale tendenzialmente al modello della tutela risarcitoria sulla base del modello diciamo americano per cui tutto sul mercato si regola col sistema dei prezzi poi se a differenza del modello americano la gente per non pagare il prezzo cioè la tutela risarcitoria fa operazioni di dissipazione distrazione depoperative è ovvio che l'unica cosa è qualcuno mi ha criticato di aver incentivato i PM a fare le iniziative fallimentari ex articolo 7 individuando dal punto di vista scientifico ottrinare la fuga dell'imprenditore nel trasferimento della sede all'estero e la vecchia con le sordi del codice Napoleone nella estinzione fraudolenta ma perdonatemi voglio dire qui siamo al discorso del concordato io sono stato avuto l'onore di venire qui a parlare anche di concordato un anno fa quello che diceva il presidente sapete che lo condivido pienamente richiamo si parla dell'abuso di concordato ma è un abuso dei professionisti perché vi voglio dire una cosa cioè io no che ho avuto l'onore col presidente pensare di far parte della commissione di riforma di riforma di riforma di riforma di riforma abbiamo visto nascere tutto ciò non sono proprio un professionista che dalla mattina alla sera non ha nulla da fare mi chiedo perché non ho presentato i cento concordati preventivi cento almeno che mi sono arrivati sulla scrivania nel mio studio del mio foro parte quello degli altri tutti e cento presentati poi da qualcun altro e tutti e cento che hanno dato luogo a guai per l'imprenditore che probabilmente se faceva una sana istanza di autofallimento non avrebbe avuto le conseguenze penali civili e di distruzione personale che ho visto realizzare ho visto vicende dove l'imprenditore veramente era un galantuomo e poi dopo di che si lamentano dice scusate ma io vi voglio fare una domanda perché se io presento un'istanza di autofallimento in cui organizzo diciamo e ribadisco l'onestà di quell'imprenditore dico per dire costa 10.000 euro se faccio un concordato preventivo un milione perché il concordato è un titolo di studio cioè è una specie di schede in alto tocaccio perché questi concordati preventivi rappresentano il momento apicale degli affari dei professionisti e qualcuno l'avrà scattato questi meccanismi allora voglio dire attenzione molte volte la colpa è dei professionisti e dice ma quello l'imprenditore ha voluto per fare è fatto così e vabbè ma non è che uno che gli muore il figlio lo convince che parla con l'aldilà e pensa di stare diciamo lo sappiamo tutti che l'imprenditore è in questa logica di over investment portato a fare il moral hazard ma noi dobbiamo spiegargli come si fa e come il professor Giannelli un'ombre piageria ha fatto una ricostruzione veramente monumentale con una sensibilità complessiva culturale non nozionistica notevole diciamo e che sono proprio quelle cose che noi dobbiamo dire ai nostri tra virgolette assistiti entro nel merito della questione il tema il tema del 2497 allora il tema del 2497 è un tema molto diciamo più interessante di quello che sembra proprio perché lo si collega in generale al fenomeno del gruppo io ho lavorato molto in questi anni per sostenere alcune tesi che finalmente vedo applicate diversi tribunali scusatemi diciamo ogni tanto almeno un po' di orgoglio tra virgolette di quello che si fa ultimamente soprattutto vedo alcuni tribunali utilizzare espressamente alcune dizioni alcune tra tutte la responsabilità da etero direzione che fosse di natura contrattuale non lo diceva nessuno anzi la relazione alla riforma della legge falle vendare dice che la responsabilità non è contrattuale ma vista che le relazioni alle riforme non servono a nulla perché evidentemente la legge ha la forza di andare oltre quello che si legge cioè soprattutto quando la legge è ben congegnata nel sistema è il primo elemento e vi dirò quale rilevanza ha la seconda altra cosa che praticamente non diceva nessuno e che l'espressione l'ente o la società che eserce attività direzione e accordamento può essere anche una persona fisica anche questo un passaggio che la relazione governativa la riforma diceva che non è così dovete sapere che originariamente la norma diceva chi poi lo sanno più o meno tutti quelli che hanno letto i lavori preparatori fu il presidente del consiglio dell'epoca trattandosi del 2003 2004 è facile comprendere chi che personalmente volle attraverso il suo sottosegretario di Stato diciamo intervenire proprio nel momento della promulgazione finale del decreto legislativo delegato sulla riforma societaria a chiedere che fosse sostituito con società o ente perché c'era tutto un problema in corso che poi è accaduto qualche anno dopo rispetto alla conoscenza o la conoscibilità di alcuni fatti da parte della persona fisica e non della società risvolti non solo civilistici ma anche penali e così via resta però che finalmente quest'anno il tribunale di Milano reiteratamente nella vicenda Ligresti Fonsai cioè quella che avete seguito un po' dai giornali e il tribunale la corte appello di Napoli nell'altrettanto famosa vicenda dei Ulema in realtà hanno articolato questi principi appunto della natura giuridica dell'attività e del soggetto legittimato passivo e inoltre hanno anche affermato la legittimazione attiva della società etero diretta allora qual è il fatto di cui parliamo il fatto di cui parliamo è molto rilevante perché perché nella nostra materia il tema della imputazione dell'attività di impresa e della responsabilità derivante da questa imputazione è diciamo come se fosse l'architrave complessivo e tutto sommato anche la questione su cui non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo si discute nel nostro paese le più belle pagine le hanno scritte nel loro dibattito due grandi maestri Walter Bigiavi e il professore Ascarelli i quali hanno appunto dibattuto di questo tema nel nostro ordinamento come sapete il tema è la responsabilità degli atti di impresa può riguardare solo il soggetto che ha speso il nome di cui è stato speso il nome direttamente da un procuratore oppure se anche il soggetto nell'interesse del quale questa attività è stata svolta ecco l'interesse dell'impresa questo tema è molto rilevante al di là che in materia fallimentare questo è un tema di diritto delle imprese di diritto societario apre il fronte ad una questione che io vi dicevo solo marginalmente individuata come tema riguardante i gruppi perché qui su sta storia del 24-97 il 24-97 normalmente vi ricordo che dice questo la società o lente poi vediamo se è anche persona fisica che esercita attività di direzione e coordinamento di altre società in violazione dei criteri di corretta gestione societaria o imprenditoriale e o imprenditoriale nell'interesse proprio ad altrui attenzione proprio ad altrui comunque quindi anche altrui esempio banale il comune di benevento usa la società di rifiuti perché impone il comune si sta la mondizia per strada andatela a prendere la società va in perdita dice abbiamo questo è un interesse della collettività appunto non corretto la mondizia societaria hai utilizzato la società pedala per farvi un esempio banale che il concetto di interesse non deve essere solamente interesse nel senso deteriore contrario all'interesse imprenditoriale l'interesse imprenditoriale è l'esercizio di attività economica per produrre bene e servizi per il mercato per almeno seguire un criterio di economicità se non di lucro ma il lucro non può essere escluso il lucro da elemento diciamo certamente non può essere escluso in uno status societario altrimenti in realtà evidentemente è illecita questa cosa allora qual è la questione il tema è che il legislatore quando qualcuno utilizza us etero dirige influence domina domina compresa la banca che ha chiesto il pegno sulle quote che non eserce il diritto di voto ma di fatto si decide come dice lei che mette i professionisti il collegio sindacale tutto il resto dice fai questo 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 e questo ed è un modo per rientrare vi sto facendo degli esempi molto rapidi chiaramente è una macro questione e quindi chi fa questo e lo fa in violazione dei criteri di corretta gestione societaria cioè il diritto della società prevede dei meccanismi di funzionamento o in violazione dei criteri di corretta gestione imprenditoriale cioè l'imprenditore deve esercitare un'attività economica al fine di realizzare appunto un lucro con metodo economico in realtà risponde nei confronti dei creditori ed è il caso di cui discutiamo oggi per attenzione la lesione dell'integrità patrimoniale della società quindi non l'insufficienza quindi un caso molto molto più ampio potrebbe essere anche assolutamente sufficiente il patrimonio a differenza del 2394 dell'azione dei creditori e nei confronti dei soci per il minor valore della sua partecipazione o per l'assenza di utili perché vi dico innanzitutto che è un fenomeno generale che involge tutta la responsabilità per l'attività di impresa un esempio banale potrei avere il 100% di una società ma non avere alcun dominio perché la società di cui è il 100% per esempio produce in esclusiva prodotti per Armani o è una concessionaria di vendita della Ford e la Ford decide i prezzi altrimenti chiude fallisce e la prendono a calci io ho il 100% delle azioni ma non comando a nulla ecco chi ha il 100% delle azioni sicuramente configura un fenomeno di gruppo 2359 che ovunque società controllata che esercita il 51% dei diritti di voto ma poi c'è il numero 2 influenza dominante cioè comunque indirettamente esercita questo ma c'è il numero 3 il più importante ai nostri fini vi racconto un aneddoto per dirvi come ognuno deve fare il suo mestiere una volta stavo a un convegno sulla riforma dell'amministrazione straordinaria all'Italia un consigliere di Stato si vantava di aver scritto una norma che consentiva l'estensione alle società che avevano contratti in esclusiva con l'Italia perché quelle formavano gruppo disse così mi fa piacere che lei ha inventato una cosa che stava scritta nel codice Zanardelli ed è il numero 3 del 2359 lui veramente si fece bianco e dopo dice lei ha ragione perché poi gli disse le ricordo che le società per azioni sole hanno 658 commi aumentati del 56% con la riforma rispetto agli originari 436 se voi parlate con un amministrativista o con uno di penale pensa che detta che la società per azioni hanno le azioni è limitata la responsabilità allora perché è importante soprattutto quella terza norma perché questo fenomeno di cui parliamo quello che io chiamo dominio in realtà è che non chiamo neppure etero direzione perché l'espressione diciamo di etero direzione cioè direzione e coordinamento è un'espressione mutuata diciamo da una serie di normative nobili e peraltro utilizzate già nel testo unico bancario e in particolare a seguito della legislazione sul gruppo bancario polifunzionale perché se andiamo a guardare la prima volta che si dice che etero dirigere dominare comandare telefonare e dire guarda devi fare così è un diritto la prima volta lo leggiamo nella nella normativa sui gruppi bancari polifunzionali perché perché dovete sapere che dopo il 29 quando prima lo Stato cercò di salvare le imprese poi in realtà visto che diciamo tramite le banche poi sommarono sia le imprese che le banche perciò a un certo punto vi trovate lì che ha la banca nazionale del lavoro e ha la motta teneva la motta prima che se la prendevano diciamo dalla privatizzazione prodice aveva la motta i panettoni eccetera perché in realtà fu un fenomeno scottati da questo fenomeno si sono in realtà per circa 50 anni tenute separate le due attività quando fu nuovamente consentito alle banche allora dice se la banca fa pure le mozzarelle e non riceve direttamente le istruzioni di vigilanza perché non le deve ricevere allora è la capogruppo che è bancaria che deve impartire le direttive a quella controllata che fa le mozzarelle chiaramente esagero provocatoriamente per dire come devi fare quindi attenzione la cosa di cui stiamo parlando non è solo un diritto talvolta è addirittura un onere un dovere le famigerate società in house providing devono avere il controllo analogo se non ce le hanno è illecito l'affidamento in house e quindi è in re ipsa il fenomeno del dominio che quindi è un diritto perché attenzione come ci insegnano i nostri maestri grandi maestri che parlavano di grunde norme di sistema ci insegnano cose semplici semplici più si fanno norme peggio si fa cioè che se c'è un diritto c'è un abuso se no quell'altra cosa si chiama fatto illecito qui non parliamo di responsabilità fatto illecito questo è rilevante pure per capire la responsabilità di cui parliamo che natura ha ma non lo diciamo tanto per dire perché alla natura poi sono collegate delle conseguenze allora riannodando le fila che succede succede che in molti 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 casi per come è strutturata la norma e per come finalmente è la lettura di questa norma mi invito a leggere come dicevo le ordinanze del tribunale di Milano nel caso Ligresti oppure le sentenze alla curta di appello di Napoli ultime in materia di De Iule ma uno di altro l'avvocato Bosco mi parlava anche di un altro provvedimento proprio poco fa in realtà il fenomeno ormai viene affrontato in maniera decisa ed anzi è riduttiva tutta sta storia che il tribunale di Bari per primo ha fatto e poi ha fatto Verona 147,5 lasciamolo perdere il 147 147 è una norma eccezionale eccezionale in Italia come in Spagna c'è chi l'ha voluta chi non l'ha voluta ma in realtà ormai le tesi diciamo di Walter Bigiavi basate sul 147 sono chiaramente superate il tema è distinguere bene ciò che è responsabilità risarcitoria da ciò che è responsabilità patrimoniale che è fondamentale soprattutto in caso di crisi la responsabilità risarcitoria in linea di principio può diventare una responsabilità patrimoniale perché se io riesco a dimostrare che tutto il guaio che ho avuto me l'ha provocato un altro e in realtà quell'altro poi non ristora quel danno ebbè fallisce ma non ha nulla a che vedere con fenomeni di estensione patrimoniale la riforma del diritto delle società in particolare ma anche quello del diritto fallimentare hanno rafforzato la persona giuridica non la hanno indebolita il contrario anzi da alcuni punti di vista nonostante l'influenza dominante dei Stati Uniti il cosiddetto piercing corporate che peraltro è cosa completamente diversa dallo squarciare il velo della persona giuridica per vicende del genere ma è legato a tutti altri fenomeni ai cosiddetti mass torts ai cosiddetti creditori involontari che chiamano gli americani non adjusting ma è un problema interessante da sviluppare ma non c'entra nulla con questo quindi il problema è responsabilità risarcitoria responsabilità patrimoniale la responsabilità risarcitoria molto spesso deriva da situazioni di abuso del dominio ossia di abuso della personalità giuridica che nel nostro ordinamento non si risolvono squarciando la personalità e quindi estendendo la responsabilità patrimoniale mi riferivo al tribunale di Bari perché il tribunale di Bari ha posto la questione di costituzionalità come ha fatto il tribunale di Verona recentemente sull'applicazione del 147,5 in ordine all'applicazione del 147,5 non solo all'imprenditore individuale ma anche alla società ma non è quella la strada è un errore clamoroso perché quella è una strada contraria alle regole del nostro ordinamento la strada è appunto quella risarcitoria e allora dobbiamo cambiare completamente idea cioè dobbiamo ragionare con le categorie del diritto commerciale scusate diciamo la logica dell'appartenenza perché guardate che che se ne dica nonostante noi sono contentissimo sono stato formato da un grande civilista che mi ha insegnato vedere la grandezza della Grund Norm civilistica ma il diritto civile e il diritto commerciale sono cose completamente diverse come il diritto commerciale cosa completamente diversa da ogni altra branca dell'ordinamento perché? perché conosce i fenomeni dell'organizzazione dell'attività che non ha nulla a che vedere con l'atto col soggetto queste sono categorie civilistiche allora la responsabilità di cui parliamo è una responsabilità da attività non da atti ed essendo una responsabilità da attività non richiede le categorie che siamo abituati a vedere della responsabilità per dire dell'amministratore di fatto che viene confuso spesso con questo fenomeno perché l'amministratore di fatto noi come lo acchiappiamo come lo condanniamo come facciamo a vedere la responsabilità perché ha compiuto degli atti verso i terzi ha speso il nome lecitamente illecitamente non ci interessa qui invece il fenomeno a cui pensa il legislatore è un fenomeno dove va a punire proprio la mancata informazione di etero dirigere di dominare senza dirlo secondo un'equazione che ormai esiste in tutto il mondo a parità di informazione la responsabilità sulla base di una buona informazione è sempre inferiore esempio che non c'entra niente con quello che stiamo parlando lo scioglimento e la liquidazione se io iscrivo l'avvenuto scioglimento mi mangio anche i bambini ma non ci sta scritto che sono responsabili per i danni provocati dalla mancata iscrizione dello scioglimento invece se non lo faccio a parità di quello delle furberie e delle farabuttaccini che faccio lì è una responsabilità ex legge dice la norma se tu non iscrivi sei responsabile quindi non dici ai creditori qual è la tua situazione in realtà sei responsabile di tutto quello che succede è uguale qui perché perché se andiamo a vedere le norme successive qui non si disciplina il gruppo qui si dice dici ai tuoi amici se tu stai facendo l'attività di eterodirezione e dici ai tuoi amici nel fare questa attività di eterodirezione perché hai fatto un'operazione e perché non l'hai fatta e se non lo dici ho l'inversione dell'onere della prova quindi una norma efficacissima qui il presidente Monteleone come tutti i magistrati sanno che la prova nelle azioni per esempio di responsabilità non sociale quando ormai è scaduto il termine di prescrizione che il curatore esercita è trovare responsabilità extra contrattuale di fronte a un giudice rigoroso come quello della Cassazione diciamo stare i primi gradi ma adesso con i tribunali delle imprese anche lì è dura e tu devi dimostrare il danno il nesso di causalità l'imputabilità dal soggetto c'è un approbazio diabolico ma pensate quello che voleva fare Walter Bichavi cioè addirittura dimostrare che il profilo della imputazione doveva nascere dai profili di spendia del nome che in realtà in base alla norma eccezionale del 147 potevano ricollegarsi all'interesse invece no perché qui la storia è che la spendia del nome non occorre la prova è la prova dell'eterodirezione per farvi l'esempio in realtà ci sono contegni che anche se io non le provo iscritte scusate ma uno che non vuol far vedere che comanda un altro che fa? lo scrive non lo scrive lo fa in maniera occulta se la Fiat vuol far produrre i coperchietti sulle ruote a Benevento a un prezzo sotto costo che fa? lo metterà per iscritto non lo metterà mai per iscritto la banca che vuole fare solo i fattacci suoi perché non dice tornando al discorso precedente mettimi i miei amministratori no no io non metto niente ho consigliato ma così si fa se voi andate con i grandi banchi allora direttore noi avremmo pensato a un manager sì però forse picchiarelli non lo conosco mi hanno sentito un certo picchiarelli c'è l'avvocato Ping e Pong sai questi nomi che io a Milano sono stato criticato perché in corte appello ho detto gli spicchi e spanno ho detto io ho le carte riciclate qua se erano spicchi e spanno mettevo subito diciamo le slide no spicchi e spanno perché se no veramente il mio amico presidente De Sauro li chiama Smith e Wesson in realtà è ancora più cioè perché se non c'hanno sti nomi cioè come quando dice io quando ero ragazzi c'è l'avvocato buono perché se no l'avvocato si è fatto papà era un scema così avvocato che si chiama Filmano forse l'accendo ancora ancora forse mi salva un po' mio figlio già gli ho messo due nomi perché in modo che fa un po' più scena si chiama già l'avevo inguaiato con Filomeno poi gli ho messo pure Roccovicini però però sta garantito un domani che mette un domani mette almeno dice studio Filomeno Roccofilmano dice quasi quasi come NCTM no e quello va bene questo veramente accade io non sto scherzando non sto scherzando quello è il dominio ma la società il povero Cristo dell'imprenditore che dice oh ti prendi questa minestra no semmai gli fanno al contempo firmare le rinunce a tutte le cause dell'anatocismo ai massimi scoperti a tutte le cose e poi gli dico tutto quello che devi fare poi non contento gli fanno fare un secondo piano di risanamento io ho fatto dei pareri per una società che si chiama Fard mi hanno fatto fare 7-8 pareri che poi in realtà andavano un certo carriere di Milano faccio proprio nome e cognome perché era io dovevo essere formalmente il ghostwriter cioè il ghostwriter è uno di cui non si vede il nome cioè no non lo scrivi tu lo scriva questo qui però visto che questo qui nessuno lo sa dice che questo ha scritto leggendo il tuo parere cose di caffchiane caffchiane cioè io spesso faccio il ghostwriter no essendo diciamo di fratta maggiore come i Zigne mi chiamano da Milano e dice fai questa cosa però non è il nome tuo mostra cosa nuova adesso un uomo perché dice bene o male tu qualcuno che ti considera quindi allora tornando a noi questo problema quindi del dominio in materia societaria è un problema di grandissima sviluppo perché e andiamo tu fermami quando ritieni allora stavo dicendo allora la questione a questo punto del dominio è importante soprattutto quello contrattuale perché perché quello evidenzia come il dominio si può esercitare anche di fatto sulla base di cosa sulla base della produzione dell'attività vi ho fatto l'esempio prima e sono casistiche antiche c'è il caso Armani non c'era ancora la norma negli anni 90 se io impongo per esempio a un fasonista di fare i prodotti solo per Armani evidentemente Armani a un certo punto ha la possibilità di impogli prezzi condizioni personali di fatto lo controlla ci sono imprese io ho assistito faccio una causa dietro direzione contro la Magnetti Marelli dove in realtà veniva fatto un controllo della società in maniera scientifico perché facevano il conto all'imprenditore di quanto costava piegare la marmitta perché questo faceva la marmitta per le punto quanto costava la marmitta quanto costava il ferro quanto costava il personale quanto quasi quasi in realtà c'era scritto pure quanto costava diciamo la bottiglia di champagne a Natale all'imprenditore e quindi significava stabilirne tutta la condizione economica a prescindere chi fosse il socio quindi sgombriamo il campo di quello che stiamo parlando si riferisca al concetto a cui siamo abituati di gruppo societario in realtà le tre sendenze di cui vi ho parlato dicono tre cose molto importanti per le ragioni che vi ho detto la prima è che è una responsabilità contrattuale perché è contrattuale? perché c'è un soggetto beh se ci pensate un attimo io sono il creditore di una società che viene danneggiata da un'altra società non ho nessun rapporto contrattuale con sopra ma anche se sono il socio non ho alcun rapporto il socio di minoranza vengo danneggiato e perché invece la responsabilità è contrattuale? perché qui non siamo di fronte a una responsabilità derivante diciamo dal generico Neminem Leder che sarebbe il principio generale per cui non si può far male a nessuno il 2043 responsabilità extra-contrattuale perché qui invece c'è un obbligo di natura contrattuale nei confronti di soggetti determinati che sono i creditori che è l'obbligo di etero dirigere in ossegue i principi di corretta gestione societaria imprenditoriale nell'interesse della dominata l'interesse a differenza di quando per esempio accade in materia di impugnativa di delibere 2391 eccetera è l'interesse qui che qualifica il dominio che non deve essere necessariamente l'interesse egoistico della controllata vi ho fatto l'esempio del comune che guarda un interesse sociale dalla raccolta dell'immondizia ma etero dirige in violazione perché non lo può fare perché non deve utilizzare la società che ha dei criteri di gestione societaria imprenditoriale a meno che dice la norma stessa non abbia attuato i cosiddetti vantaggi compensativi cioè abbia eliminato il danno o lo abbia ristorato in un altro modo cosa che nei gruppi accade come quando ci sono i cosiddetti transfer price come fa il più grande delinquente del mondo cioè l'Apple che in realtà ha le società in Irlanda dove paga il 12% di utile e poi vende solo paga in Italia 4 milioni di euro di tasse sugli utili io che so frattamaggiore vicino al centro commerciale campane 4 milioni di euro l'Apple centro li guadagna all'ora e il sabato pomeriggio ogni ora allora per dirvi in questo caso le logiche di gruppo che in questo caso è l'Apple che fa finta di produrre in Irlanda spara un prezzo enorme a quella italiana e quella povera italiana giusta paga i costi questo è il meccanismo e e questo sistema di appunto di dominio in realtà è un sistema che è abbastanza agevole da leggere perché se non occorre la spendia del nome che era il limite dei tentativi precedenti di aggredire la responsabilità delle capogruppo non occorre la cosiddetta autonoma economicità perché l'attività è eterodiriggere ed è un'attività non sono atti ed è un'attività che può avvenire tanto in via formale tanto in via sostanziale ma attenzione quando viene in via sostanziale cioè occulta il legislatore lo frega perché inverte l'onere della prova perché dice in realtà che se tu non hai congruamente motivato l'operazione sei responsabile sei tu a dover fare il contrario non è il curatore del fallimento o il creditore peraltro questa qui a differenza di quella che diceva il presidente Panzani è un'azione sì di pertinenza e non di massa la differenza è semplicemente tecnicamente che la può fare solo il curatore o il curatore la fa in sostituzione dei creditori qui il curatore la fa in sostituzione dei creditori tanto è vero che a differenza delle azioni di responsabilità l'azione dei soci permane quindi gli stessi soggetti possono essere attaccati sia dal fallimento sia dai soci perché il curatore non ha l'azione dei soci qui ha solo l'azione dei creditori ed è un'azione di pertinenza della massa la responsabilità dunque è contrattuale io perdonatemi un riferimento culto ma appunto la mia diciamo formazione mi porta a dire questo ho avuto modo di individuarla sì anche meno ho avuto modo di individuarla come quella che Gaio nell'istituzione nell'istituzione chiama responsabilità quasi contrattuale varie cause e figure cioè in realtà quella derivante 1218 perché qual è la questione? come dice la Cassazione non è diciamo il titolo dell'obbligazione ma è la natura dell'obbligazione che individua il tipo di responsabilità questa è una violazione dell'obbligazione l'obbligazione di tipo contrattuale di etero dirigere secondo correttezza rende tutto questo la norma molto efficiente e soprattutto la rende efficiente per chi la deve esercitare molto più agevole da ottenere un passaggio sul perché questa è una società questa è una responsabilità che può essere anche del singolo quindi della persona fisica perché innanzitutto c'è un problema terminologico cioè la parola ente che se vediamo il devoto olio o comunque l'accademia comprende l'entità fisica quindi l'errore di chi quella notte che come vi ho detto ha voluto cambiare la parola a chi non è riuscito ma il secondo tema è un altro che ve lo dico mi deriva sempre dalla tradizione civilistica secondo voi è possibile distinguere l'esistenza o non l'esistenza della responsabilità da un punto di vista della natura giuridica del soggetto sarebbe contrario a ogni principio di uguaglianza costituzionale cioè io sono responsabile se sono una persona giuridica e non sono responsabile se sono una persona fisica avendo svolto la medesima attività evidentemente è un non senso ecco che possono aver detto quello che vogliono ma andiamo sicuramente in questa specifica direzione un'ultima accezione però la voglio dire con riferimento perché poi è un'esperienza di cui mi sto occupando personalmente nella qualità di curatore di Bagnoli Futura il tema della invece dell'ente che è un tema molto rilevante dell'ente pubblico perché perché io credo che io sono stato un grandissimo assertore della fallibilità delle società pubbliche della necessità di voglio dire subire le conseguenze più doverose derivanti dall'aver scelto lo statuto dell'imprenditore lo statuto della società e ho anche spiegato che il problema fondamentale aveva confuso il soggetto ancora una volta dall'attività anche l'imprenditore privato se svolge un'attività di livello pubblicistico ad esempio come concessionario è soggetto alle regole pubblicistiche non per questo non è più un imprenditore privato e quindi il tema è questo ma attenzione per le società per gli enti il problema è molto molto rilevante perché soprattutto per quelle in house perché per quelle famose in house adesso se ne accorgono di quello che hanno voluto fare per quelle che in house il dominio di cui parliamo in violazione dei criteri di corretta gestione societaria è il rape la causa è già vinta voi dite perché è perché non è possibile il contratto di dominazione nel nostro ordinamento lo dice il 2497 septis come ulteriore elemento di presunzione del controllo non è possibile non è possibile il diritto societario dire in una società per azione guarda tu devi fare quello che dico io questa è violazione dei criteri di cogetto gestione societaria posso tutt'al più fare le direttive quindi Rordorff loro pensano che Rordorff gli ha fatto un piacere Rordorff che nella sentenza sezione unite ha evidenziato chiaramente che deve trattarsi del soggetto che si dice diciamo in Norvegia a capi lignam quindi praticamente quello è il soggetto a capi lignam come si verifica effettivamente in molte di queste società pubbliche quindi la responsabilità c'è sicuramente perché in sé il controllo analogo genera in sé la violazione dei criteri di gestione questo senza andare a guardare a quella imprenditoriale che è 99 su 100 essendo tutte le società in perdita ricapitalizzate e che hanno fatto i servizi pubblici e altri servizi non pubblici diciamo privati in realtà generano questo tipo di situazione secondo elemento particolarmente rilevante tutto questo supera sto problema della giurisdizione perché io che mi sono occupato di diverse azioni di responsabilità in questi casi supera il problema della giurisdizione perché perché in realtà quello che è uscito dalla porta rientra dalla finestra perché questa norma che è molto efficiente contrariamente a chi l'ha commentata all'inizio c'ha un secondo comma che adesso i nostri giovani colleghi hanno un giovane collega che in un libro ha chiamato responsabilità giustamente aggiuntiva secondo comma prevede una responsabilità molto più ampia nei confronti non solo dei amministratori ma degli amministratori dei sindaci degli amministratori di fatto e persino dei politici quasi quasi i legislatori ci stava pensando perché la norma dice che c'è una responsabilità insolita in questa vicenda e quindi anche degli amministratori della controllata di chiunque abbia preso parte al fatto lesivo o nei limiti del vantaggio conseguito chiunque abbia tratto beneficio grazie grazie e complimenti veramente al professor Fimanò perché oggettivamente non è facile con sarcasmo auteronia soprattutto con quei parallelismi col diritto concursuale svedese tipo testa di legno mi è sembrato di capire mettere il dito veramente nella non dico nella piaga ma nelle piaghe più reconti di tutte quelle che sono le problematiche del diritto commerciale societario che oggi regolamentano la nostra economia di fatto perché noi ci occupiamo poi come fallimentare di tutte le problematiche patologiche ma dimentichiamo grazie a quello che oggi il professor Fimanò invece ci ha riportato a mente e alla luce che effettivamente tutto quello che è rotto intorno invece è molto più complesso è tutta un'attività di coordinamento di direzione di controllo con vari livelli e stadi di responsabilità e profili su cui ci sarebbe e c'è veramente tanto 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 da dire ma io non voglio togliere altro tempo perché l'avvocato Bottai che vi ha già tratteggiato sommariamente il professor Fimanò è stato un affresco è stato un affresco vi ha affrescato il professor ecco a cui cediamo veramente la parola perché per entrare un attimo e per concludere forse una sessione degna di nota non possiamo non parlare che i profili di responsabilità del curatore perché qui da adesso forse il caso visto che siamo qui sempre in campagna eccetera qualche corno toccare da qualche parte perché sentiamo un attimo che cosa involge in concreto la vera problematica del curatore quando si trova dall'altra parte del 146 quindi diciamo una legittimazione questa volta non attiva bensì passiva fammi permettere intanto non vorrò assolutamente fare lo stalker vostro perché come dice giustamente Francesco questo tema potrebbe proprio veramente finirvi e distruggervi definitivamente per la giornata voglio invece consapevole di essere un vostro collega e di dover stare da quella parte invece che da questa parte mi autoriduco il tempo al minimo giusto per presentare il tema e l'argomento che dobbiamo trattare ma per poi invece darvi spazio e cercare di aprire un dibattito se vi va su quello che è che sono i problemi della crisi di impresa più attuali che ha toccato perfettamente il professor Finmano adesso parlando di una responsabilità dinamica perché è quello che non si riesce a capire la differenza è quello che molti tribunali a differenza veramente di uno dei pochissimi che è qua presente che aiuta le imprese in tutti i sensi e in qualunque momento ma quello che gli altri tribunali non capiscono è che la responsabilità dinamica è completamente diversa la concezione della responsabilità dinamica è completamente diversa da quella statica del codice civile è inutile che andiamo troppo a ritroso ma insomma la separazione dei codici del codice di commercio poi il codice civile la riunificazione delle cose pagine bellissime del vivante e via dicendo ma insomma non mi azzardo a entrare in terreni in terreni altrui però ho letto proprio da stalker come stava dicendo Francesco ho letto delle pagine bellissime anche attuali Libertini recentissimamente dalle monache come si chiamano altre insomma stanno parlando stanno ritirando fuori questo problema perché la crisi di impresa oggi per capirla bisogna andare indietro nel 1800 per capire qual è la differenza tra la responsabilità patrimoniale come stava dicendo statica io rispondo del singolo atto che commetto io debitore civile compro una cosa vendo una cosa faccio una cosa e quella è la mia responsabilità rispetto a quella dell'impresa che invece dipende dall'organizzazione non mi addentro appunto in questo settore perché non è il mio però è completamente diversa è chiaro che un'impresa riuscirà a pagare i suoi debiti solo se va avanti se riesce a continuare a produrre chiaramente dovendo apportare tutte le modifiche che sono necessarie ma non non certo bloccandola istantaneamente ad un certo punto che così si disperdono e si disgregano tutti i fattori quindi lascerei spazio a voi a qualunque intervento volesse essere fatto nella seconda parte responsabilità del curatore rapidissimamente la responsabilità del curatore non sembra ma nasce anche questa dalla riforma del diritto societario cioè bisogna ricollegare e anche su questo aspetto il fallimento ricordatevi che la riforma del 2005 nasce dopo quella del diritto societario e recepisce tante istanze tante direttive della riforma del diritto societario perché anche nella responsabilità del curatore ci sono su questo singolo tema che è veramente sembrerebbe minimo e circoscritto ma ci sono tre agganci tre collegamenti con il diritto societario stesso è stata interessantissima prima l'esposizione del professor Giannelli sul 2486 mi pare 87 quella ecco quella è già la causa principale cioè la conservazione l'obbligo di conservare i valori e i fattori produttivi l'organizzazione per il curatore invece quali sono gli agganci con il diritto societario sono molto semplici numero uno la norma che riguarda la responsabilità del curatore è l'articolo 38 e il 38 ripete pari pari le norme le frasi del 2392 quindi la responsabilità deriva dalla prestazione quindi dagli obblighi di adempimento dei doveri previsti dalla legge lì aggiungono dello statuto perché ovviamente nel diritto societario lo statuto è quello che regola oltre alla legge è lo statuto quello che regola l'attività dell'amministratore e qui invece che lo statuto c'è il piano di liquidazione e quindi primo punto l'articolo 38 ricalca pari pari il 2392 secondo punto la governance soprattutto del fallimento è ripresa e riportata pari pari su quella del duale come dice il buon Abriani e comunque ormai si va affermando la cosa il curatore è come se fosse un consiglio di gestione l'amministratore delegato il comitato dei creditori è come se fosse il consiglio di sorveglianza è quello che prende le decisioni più importanti quindi l'autorizzazione delle transazioni e del programma di liquidazione bastano solo questi due atti per capire qual è l'importanza dell'attività del comitato dei creditori ed è uguale lo stesso rapporto che esiste tra consiglio di sorveglianza e consiglio di gestione allora questo è un secondo un secondo collegamento che porta a vedere nella figura del curatore un esecutore oltre che l'organo propulsivo oltre che il gestore dell'attività che deve rispondere a determinati canoni terzo si pensa che con il rendiconto con l'approvazione del rendiconto ci sia la liberazione dagli obblighi e dalle responsabilità assolutamente non è vero come dice il 2434 il 2434 dice che l'approvazione del bilancio di esercizio non libera gli amministratori dalla responsabilità per la gestione è uguale identico è quello che succede nel fallimento con il curatore non pensiate che con l'approvazione del rendiconto vi siate o si siano chi fa il curatore liberati dalla responsabilità per un motivo molto semplice perché è vero che il rendiconto è un rendiconto di cassa e di gestione non solo di cassa ma anche di gestione quindi bisogna dire tutte le attività ma chi è che le dice queste attività è lo stesso curatore quindi il curatore può avere tutto l'interesse a nascondere a sottacere a non evidenziare le cose che ha fatto meno bene rispetto a quelle che ha fatto bene quindi i creditori non sono tenuti a rispettare quel suo rendiconto quella sua presentazione perché possono tranquillamente agire dopo adesso vediamo come possono agire peraltro c'è anche l'attività successiva al rendiconto perché io posso anche aver fatto tutto bene fino al momento del rendiconto poi non faccio il riparto sbaglio il riparto e la responsabilità è successiva al momento del rendiconto quindi anche questo è un altro argomento che dimostra la validità della tesi del 2004 e 34 e quindi della tesi ormai affermata dalla Cassazione in più occasioni che il curatore può essere responsabile anche con l'approvazione del rendiconto allora detto questo che ci sono collegamenti con il diritto societario vediamo quali sono qual è la struttura dell'obbligazione del curatore e quindi la genesi della sua responsabilità la fonte degli obblighi abbiamo accennato prima la fonte degli obblighi di due tipi uno la legge quindi tutte le norme tutte le norme che disciplinano l'attività del curatore che non sono solo nella legge fallimentare perché tutte le norme che il curatore deve rispettare sono tante come diceva inizialmente anche il presidente Panzani addirittura recentemente quelle in materia ambientale non c'è la responsabilità per l'attività svolta precedentemente dall'imprenditore è chiaro che se l'imprenditore ha utilizzato amianto ha utilizzato materiali da dover smaltire non per questo ne risponde il curatore ovviamente però ovviamente insomma anzi purtroppo recentemente molte procure si sono accanite contro vari colleghi me le hanno riferite a Terni ma è successo anche in altre parti dove i pubblici ministeri se la sono presa con i curatori posso dire che ho avuto una citazione diretta a giudizio per furto per i privati di cassa nel mio caso è nazionale chiaramente assolto con procedimenti al PM ma perché lì non c'è il GIP quindi ti confermo benissimo perfetto quindi la responsabilità del curatore in materia ambientale in materia di bonifica in materia di di tutti i tipi però questa responsabilità c'è solo se si fa l'esercizio provvisorio parentesi esercizio provvisorio che io consiglio di fare il più possibile oculatamente vedendo tutte le ovviamente entrate uscite vedendo tutti i numeri da vedere necessariamente da controllare però ve lo consiglio perché è una gestione è una gestione che porta grandi soddisfazioni al fallito prima di tutti e ai creditori diciamo ai creditori prima di tutti perché si evita il rischio di dispersione dell'azienda con l'affitto perché tante volte qui poi abbiamo il massimo esperto di affitto d'azienda e quindi tante volte con l'affitto oggi hai cambiato è da sconsigliare perché l'affitto dell'azienda esattamente è meglio l'esercizio provvisorio perché è controllato è sotto controllo e sotto tutte le verifiche possibili l'affitto voi date l'azienda a un soggetto che ovviamente tenderà a svuotarla per pagarvela di meno per farvi eccezioni voi sapete il presidente della Sampdoria è riuscito a mettere le mani su tutti i cinema di Roma pagando un milione un milione sui cinema del gruppo Cecchigori eccetera eccetera pagando un milione di acconto dopodiché è entrato e ha cominciato a fare tutte le eccezioni possibili immaginabili era una società che era in liquidazione stava per andare in procedura ma questo non c'è questo non va bene questo manca questo doveva essere diverso e così è riuscito ad accaparrarsi tutti i cinema pagando poi una cifra hanno fatto ovviamente transazione una cifra irrisoria quindi attenzione quando autorizzate o pensate di fare affitti d'azienda attenzione a chi vi mettete in mano perché poi perdete la gestione dell'azienda ce l'ha l'imprenditore e l'imprenditore non farà certo il vostro interesse di curatori farà l'interesse degli altri allora torniamo un attimino alle fonti degli obblighi quali sono le fonti degli obblighi abbiamo detto la legge e non è solo la legge fallimentare ma sono tutte le leggi che regolano l'attività del curatore poi c'è il piano di liquidazione il programma di liquidazione questa è la novità assoluta rispetto alla legge del 1942 che ha introdotto ecco è stato introdotto questo incombente per il curatore di decidere lui qual è l'attività da svolgere benissimo cercate di fare la massima attenzione nel piano di liquidazione ve lo dicono il programma di liquidazione perché sempre come diceva prima anche il presidente Panzani si fanno delle azioni che poi non portano a niente e siccome oggi bisogna pensare che il curatore viene giudicato proprio su quel programma di liquidazione e sui risultati che porta non possiamo più andare avanti con lo stesso schema che avevamo prima dopo un po' mi rendo conto che devo fare un recupero crediti dopo un po' dopo qualche anno mi rendo conto che c'è da fare una revocatoria dopo un po' mi rendo conto ma facciamo un'azione di responsabilità no bisogna innanzitutto prevederlo già da subito il più possibile poi ovvio si possono fare i supplementi ma insomma bisogna prevederlo già da subito tutto il programma ma soprattutto bisogna pensare al risultato e per pensare al risultato bisogna bisogna mettersi nei panni dell'imprenditore quindi bisogna dire mi conviene bisogna farlo con uno schema imprenditoriale mi conviene o non mi conviene andare a recuperare 30.000 euro di credito verso un soggetto che non si sa che cosa ha mi conviene o non mi conviene andare a fare delle cause revocatorie per vendite di immobili fatti precedentemente ma senza avere la prova certa prova certa diciamo almeno all'80% di poter dimostrare la conoscenza da parte dell'altro dell'eventus damni del consiglium fraudis della partecipazione fraudis eccetera eccetera allora vi prego ve lo dico ovviamente da collega non certo perché sto qua sopra ma vi prego di considerare attentamente come si fanno i programmi di liquidazione perché su quello sarete giudicati in teoria si dovrebbe poi è chiaro è una cosa che ancora non è arrivata nelle aule di giustizia ma prima o poi arriverà perché bisognerà rendere conto qualcuno dovrà rendere conto di quello che dice e poi non fa quindi ci vuole soltanto un po' di tempo che le banche si accorgano di qual è il punto nevralgico in quel momento rischierete grosso non è adesso sarà fra un po' ma comunque si rischierà grosso quando si arriverà alla fine del fallimento e si vedrà che i risultati non sono quelli che erano stati previsti a quel punto la responsabilità è quasi automatica è vero che c'è la business judgment quindi anche qui il programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori autorizzato dal giudice delegato chiaramente esenta da responsabilità però fino a un certo punto perché tutte le spese eccessive e quindi penso i contratti da fare con i professionisti che si devono incaricare delle azioni cercate di modularli prima di ridurli o quantomeno di pattuirli in certe misure magari con success fee pensando a varie formule però ecco quelli vanno vanno tenuti sotto controllo perché altrimenti le spese salgono e diventano sempre più elevate gli incassi rischiano perché quella è una variabile assolutamente indipendente non potete controllarla quindi attenzione perché se salgono quelle automaticamente andrete voi in responsabilità quindi spese eccessive scelte manifestamente irrazionali superano quel filtro che deve mettere il tribunale o il comitato dei creditori autorizzando l'atto straordinario la transazione il programma di liquidazione e via dicendo non è detto che appunto una volta autorizzato la responsabilità sia poi venga meno allora veniamo e chiudo veniamo all'articolo 38 sulla responsabilità del curatore allora il curatore abbiamo detto un attimo fa che è responsabile dei doveri del proprio ufficio imposti dalla legge o derivanti dal piano approvato con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico diligenza specifica inutile che perdiamo tempo su queste cose 1176 secondo comma quindi ma la diligenza è solo un parametro un criterio di valutazione dell'operato dell'attività quindi è solo un parametro di valutazione che viene in un secondo momento il secondo comma del 38 ci dice espressamente che l'azione di responsabilità può essere esercitata solo in pendenza di procedura e solo dal nuovo curatore che significa e qui chiudiamo l'argomento perché ovviamente poi ci sarebbe molto altro da dire ma insomma rimaniamo solo alle cose essenziali significa una cosa molto semplice che l'azione ex articolo 38 quindi l'azione di responsabilità contro il curatore è un'azione che può esercitare solo il nuovo per un motivo chiaro e semplice altrimenti ogni curatore resterebbe esposto agli attacchi dei creditori del fallito soprattutto del fallito e dei terzi che volessero recare disturbo fare minacce ritorsioni e via dicendo magari per aver subito una revocatoria quindi la può svolgere soltanto il nuovo curatore quindi implica una revoca o le dimissioni del precedente curatore revoca o dimissioni che ovviamente seguiranno degli atti compiuti con malagestio può avvenire questo in genere nel momento del rendiconto nel momento in cui si deve rendere conto e qualche creditore o qualche terzo solleva contestazioni ma può avvenire anche prima quindi abbiamo detto legittimato è soltanto il nuovo curatore il presupposto è quello della revoca del precedente curatore dice ma allora creditori terzi e fallito sono sforniti di mezzi di reazione nei confronti di errori di dolo colpa del curatore nei loro confronti no non sono sforniti hanno un'azione molto semplice tranquilla la classica azione generale del 2043 l'azione aquiliana che prevede ovviamente tutte le le norme che sappiamo e quindi bisogna dimostrare oneri probatori prescrizione più breve e poi prova del ovviamente non solo del dolo e della colpa del nesso di causalità e del danno quindi tutta una serie molto più complessa però ecco il terzo quindi il terzo che subisce un danno dal curatore il il creditore che anche lui ritiene di aver subito un danno possono esperire quest'azione ai sensi del 2043 solo però per i danni subiti come conseguenza diretta ed immediata dell'operato del curatore conseguenza diretta ed immediata sul loro patrimonio mentre l'azione dell'articolo 38 è un'azione che si basa sul pregiudizio sul danno nei confronti della massa perché il rapporto ed ecco chiudiamo con la natura dell'azione vediamo che natura ha quest'azione dell'articolo 38 il rapporto è tra curatore e massa e attività o passività ma intese in senso complessivo questo rapporto è predeterminato dalla legge previsto quindi già in anticipo dalla legge è predeterminato nei soggetti anche i soggetti sono ben individuati i creditori concorrenti i terzi che contrattano non quindi non il quisque de popolo non un terzo che non faccia parte che non sia già ben individuato precedentemente poi c'è il controllo sul curatore da parte degli organi e poi c'è anche una serie di vincoli preesistenti che determinano la natura contrattuale dell'azione questo secondo la migliore dottrina secondo la migliore giurisprudenza natura contrattuale che è un rischio per il curatore perché ovviamente la prescrizione è più lunga e l'onere della prova è a suo carico quindi è tutto completamente diverso il 1218 dal 2043 e allora attenzione per quanto riguarda questa fattispecie per invece terzi che vogliano attaccare il curatore c'è quell'azione del 2043 che ha però dei presupposti molto più difficili io mi fermerei qui per aprire su altri fronti se poi volete continuiamo come preferite voi grazie complimenti a Luigi e a Romato Bottai così acchiosa all'atere a quello che puntualmente lui ha detto occhio ai curatori anche all'udienza di verifica dallo stato passivo perché è vero che il programma di liquidazione lo prevede espressamente l'articolo 35 ma la mancata o il non eccepire tempestivamente quello che il curatore deve eccepire può essere grave causa di responsabilità se è vero come è vero che l'articolo 37b sprevede l'adunanza dei creditori che sarebbe quello che avviene davanti al giugio legato ogni udienza di verifica e quello è il luogo il sito naturale in cui tutti i creditori possono usando un termine politico sfiduciare il curatore e quindi chiedere al tribunale la sua sostituzione che è l'anticamera dell'inizio dell'azione di responsabilità che ovviamente il nuovo curatore può laddove ravvisa gli estremi esposti dall'avvocato Bottai o deve esperire bene io direi di aprire il dibattito non prima di aver evidenziato che come dicevo prima nell'introduzione dei lavori che l'avvocato Bottai tra l'altro si è fatto portavoce sul sito di receivership di un'importante iniziativa siamo lui la larvatamente richiamata io la introduco apertamente siamo nell'ambito aperto della gestione della chiesa impresa con o contro o avverso provvedimenti giurisprudenziali di legittimità ma quasi sempre di merito che restringono le maglie tanto da poter o da portare quella sfittico campo su cui noi quotidianamente ci confrontiamo e qui mi richiamo a quello che diceva il professor Fimanò precedentemente cioè di imprenditori sfortunati e quindi non in malafede o peggio ancora al limite del codice penale e quindi è lo stesso per professionisti di casi e quindi per cercare di dare una interpretazione evolutiva aperta di favor per la gestione laddove questo dovesse in concreto poi essere possibile per portare a casa il risultato della salvaguardia dei livelli produttivi ovviamente del mantenimento dei contratti e del mantenimento del appunto del perdonami Michele io non è che dico contro i provvedimenti dei tribunali che pure ci sono alcuni tribunali che esagerano mentre invece la realtà dimostra il contrario però non è questo solo è nell'atteggiamento di certi colleghi e io stando dall'una e dall'altra parte insomma lo vedo spesso di certi colleghi che sono rigidissimi nel momento in cui si vestono il cappello del commissario e poi invece quando però fanno loro i presentatori quando fanno loro i presentatori si pretendono che tutto vada bene ma questo questo che dice è fondamentale cioè bisogna avere esattamente lo stesso atteggiamento lo stesso atteggiamento quando parlo del concordato perdonami che oggi abbiamo parlato di tutt'altro ma io non è che sto contro un istituto però guardate vi dico nella pratica che cosa accade salvo casi di società tra virgolette impersonali o quotate che non appartengono purtroppo alla nostra realtà né di Benevento né di Napoli né di Bari ora la questione è questa guardate quando viene uno cioè se questo qua è stato l'imprenditore diciamo sfortunato per bene ma al tempo stesso anche furbetto tra virgolette e quindi ha risorse proprie allora sinceramente farla passare attraverso un concordato è una sciocchezza perché in realtà si fa un accordo di strutturazione con i mezzi esterni va a coprire tutte le posizioni mano a mano che vengono il concordato intanto si giustifica la vera vicenda in cui si giustifica quando c'è un acquisto vero da parte di un soggetto terzo o se vuoi col mutamento degli assetti imprenditoriali dell'azienda che deve essere non decotta e deve consentire proprio attraverso la vendita l'affitto reale il momento della separazione oppure a quell'imprenditore che sostanzialmente sta forte ma la maggior parte dei casi alla mia domanda dico beh a parte queste sciocchezze perché se voi volete fare che dovete pagare e dovete pagare tutti vuole dare quattro soldi non vi succede niente per di più vi tenete anche l'impresa voi dovete andare all'urdo e se all'urdo vi va bene mi chiamate pure a me perché io mi faccio concordato preventivo di francesco fin ma no perché anche io non voglio pagare a nessuno e voglio stare uguale ad oggi eh allora la questione è questa la prima domanda è questa lei ha mezzi visto che questa situazione non mi piace e non mi comincia a parlare i magazzini questi magazzini ne voglio sentire perché cominciamo cioè con i tempi che corrono questi magazzini non ne esistono i magazzini guardate del magazzino non parliamo ci ho detto ci ho detto e questa è la no guardi questa è ah no questa è la rivederci cioè il problema non è e ti dico faccio il commissario non ho mai presentato concordato preventivo ma di me dicono che io schiatti concordato preventivo come commissario allora mi capita una vicenda di concordato preventivo della diciamo della della carta igienica un'impresa di carta igienica qua praticamente aumentava del 70% del fatturato e i mezzi finanziati erano i stessi scusate ma sta scritto in italiano ma lasciamo questa fattibilità economica giuridica tutte queste belle cose scusate ma voi la carta igienica la materia prima la accattà o ve la regalano perché se il 60% del costo di produzione è la materia prima se voi abbiamo mandato un triplo fatturato ha domandato quanto meno un triplo pure a materia prima o no nel piano industriale non ci sta ma dove vogliamo andare oppure la continuità che poi si è trasformato commissario giudiziale in una specie di collegio sindacale che in realtà deve andare a verificare financo con controllo contabile perché gli devo andare a verificare pure i pagamenti perché fanno i pagamenti a tutta diciamo oppure me ne capita un altro dove in realtà il concetto di continuità non c'è niente dice no ma quando tanto non c'è niente quindi in realtà è utile non c'è niente per cui continua il commissario deve dire che è buono perché tanto se no non c'è proprio niente nella società ah perché non c'è niente ma continuano a fare la disertività economica può essere che voi avendo un commissario che in realtà andate meglio di prima perché prima già erano puntini puntini il commissario è diventare più bravo è come braccio di ferro in più non potete fare tutte quelle belle cose con il commissario insomma un po' diciamo di elasticità e allora poi queste sono le realtà che ci riguardano parliamoci chiaro non è che uno è contrario a prescindere la verità è che conoscendo i nostri prenditori commerciali secondo l'alconio che io ho fatto diciamo il prenditore commerciale nella nostra realtà allora la questione è questa se il professionista dice da me dico no ma un altro no 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 qui si fa comincia a dare il 30% perché così si fa contratto 30 30 e 40 mediamente ho imparato non avendone fatte diciamo ho imparato però che se un giorno li facesse così si fa perché dice migliato 30 poi se si scemeri i creditori ci credono l'altro 40 già rinunciato dall'inizio premessi questi consigli che non dovremmo attuare ovviamente vediamo se ci sono domande ecco domande sì costruttive grazie no la domanda è connessa a questa iniziativa partita dall'avvocato Bottai dico prima una cosa al professore Fimmano per scherzare ovviamente fossi stato io lo dava è solo dell'impresa di cartigianica mi avrei detto che i costi rimangono gli stessi perché invece di tre veli fa la cartigianica con un solo velo quindi va ad un terzo del costo delle materie prime ma al di là di questa sciocchezza no io credo di aver letto poi non lo vendi più dopo una settimana quando ti raccordo questo è vero però i costi anche perché poi va a finire tutta lì sì no volevo partire da questo che era il manifesto allora ho letto ne ho parlato prima con l'avvocato Bottai prima di iniziare questa bellissima sessione del corso la problematica attiene a quelli che sono i rapporti fra i professionisti i rapporti fra i professionisti quando rivestono il duplice ruolo da una parte possono fare assistere il debitore e quando poi si trovano a vestire i ruoli del commissario effettivamente io ho raccontato all'avvocato Bottai ma mi sembra che l'ho raccontato anche in un altro convegno al presidente Montalione quello che è successo a me è che effettivamente non si può atteggiarsi in maniera differente a secondo di dove si trova occorre secondo me il commissario ma così anche come l'advisor perché lo dice lei professore Fimano cioè l'advisor e il commissario si devono sporcare le mani nel senso devono comprendere qual è la realtà dell'impresa e comportarsi di conseguenza io le racconto quello che mi è successo velocemente vado in un'impresa anno c'era inferiore faceva faceva ormai è fallita nel frattempo faceva conserve domande di concordato in bianco arrivo un quarto d'ora il mio il mio errore nel fondo del precommissario arrivo un quarto d'ora dopo trovo questi precommissari che hanno dato un decalogo erano forse più dei dieci comandamenti perché erano 11-12 leggo velocemente uno di questi comandamenti che avevano dettato è una società che stava in produzione diceva che il debitore prima di pagare gli stipendi correnti dovevano chiedere l'autorizzazione al commissario mi permise semplicemente di dire ma insomma che non stava niente in terra e ricominciare un po' dal decreto del giudice quello che il giudice aveva ordinato la faccio breve arriviamo che i primi commissari dissero al debitore che loro non dovevano loro e il commissario non volevano parlare con me costituito nella procedura e che neanche il debitore doveva parlare con me quindi profili di deontologia nei rapporti fra me e i colleghi profili di difesa di tutto e di più allora io personalmente aderisco a questo manifesto lanciato dall'avvocato Bottetti è per fare un protocollo aspetta non voglio per fare un protocollo Giovanni Lagrocio ha detto bene non è un manifesto non è che dobbiamo fare una cosa dobbiamo fare un protocollo di regole precise da osservare regola di comportamento avvocati commercialisti questo protocollo molti qui sono commercialisti voi mi spiegate dal punto di vista della dottrina aziendale come si fa un piano industriale con uno scenario quinquennale quando i piani preventivi nelle società quotate che c'engono 300 coprofessionisti non corrispondono mai a quelli consultivi cioè mi spiegate se è possibile fare uno scenario di un piano industriale di un piano di concordato preventivo a 5 anni perché a me mi hanno insegnato che non si può fare gli economisti in realtà quel piano allora esempio concordato in continuità diretta è una cosa seria secondo me è una cosa poco seria e l'altro non è un concordato in continuità ma lo dico proprio tranchant perché dire che è un attestatore sicuramente incorrerà in delle responsabilità perché voglio sentire un grande aziendalista che mi dimostra che si può fare un piano industriale verosimile che quindi corrisponda al piano di concordato su uno scenario temporale di 5 anni io sì siamo perfettamente d'accordo io ho sentito il professore al suo posto Massimo Ferro dire che c'è un colloquio a voci diverse fra gli economisti che dicono quello che dice lei e anche i giuristici che poi gli dico che non è la stessa cosa io concordo pienamente con lei e concordo con lei non è possibile dare certezza sono sicuro sono certo nel dire che c'è responsabilità da attestatore se non riesce a dopo un anno quel piano industriale dopo un anno i risultati non si rispettano perché diciamo una spostazione di un anno deve poter essere precisa ma io questo volevo dire che non è un manifesto ma è un riscrivere insieme delle regole di comportamento che poi ognuno di noi deve volanteramente accettare per la domanda era se e quali sono quali possono essere le azioni di responsabilità da potersi avviare nei confronti dei commissari o precommissari ecco perfetta l'azione di responsabilità è la stessa identica che si fa contro il curatore è chiaro che è un 2043 cioè la fa il singolo però è la stessa identica cioè le responsabilità del commissario sono le stesse del curatore è richiamato l'articolo 38 dal 160 non so quale 64 mi pare che sia è richiamato il 38 quindi le responsabilità sono le stesse il problema però è che attenzione a chi fa l'attestatore vi dico che c'è una quantomeno adesso a Roma me l'hanno riferito ieri la procura di Roma ha preso di mira tutti gli attestatori e adesso cominceranno a partire le sospensioni avete già letto il decreto di Torino il GUP di Torino il GIP di Torino che ha sospeso dalla professione quel commercialista sospeso dalla professione quindi non puoi esercitare niente della tua professione che ha attestato il piano in un certo modo cioè dichiarando che era fattibile l'abbiamo letto tutti quello del luglio 2014 adesso però come? sì sì però dico stanno prendendo tutti quanti gli attestatori di tutti i piani anche quelli passati questa è una direttiva che hanno tutte le procure non è soltanto quella di Roma tutte le procure quindi fate molta attenzione nelle attestazioni perché adesso si arriva hanno cominciato a vedere che i risultati dei concordati non sono quelli che diceva il debitore quindi è giustissimo tenere sotto controllo la cosa per carità però ritorniamo alla cosa ritorniamo alla raccomandazione del marzo 2014 che diceva il presidente Panzani signori il 96% delle imprese che falliscono è onesta solo il 4% è fraudolenta 4% ma voi sapete che ogni impresa che fallisce manda a casa una media dunque sono le piccole e medie imprese in Europa sono 2 milioni sono 23 milioni ogni anno insomma alla fine viene fuori che ogni anno 2 milioni 800 mila persone in Europa perdono il lavoro per i fallimenti quindi sono 2 milioni e 800 mila famiglie che non hanno più da mangiare e questo è il punto è chiaro che molte di queste sono piani che non stanno in piedi che non devono non dovrebbero neanche esistere però andiamo ecco con Grano Salis se posso allora sul tema della condivido tutto gran parte di tutto quello che è stato detto sul tema della commissione dei ruoli tra commissario e professionista o meglio sul fatto che effettivamente il professionista quando per il commissario si mette diciamo pure il cappello da maresciallo della finanza quando poi fa invece il consulente della impresa naturalmente assume tutta altra veste eccetera ci sono per esempio a Firenze i due ruoli non sono interscambiabili almeno per quanto riguarda le procedure più grosse il comune amico Nicola Briani che prima è stato citato raccontava che a parte le procedure diciamo di minor peso per quanto riguarda quelle più grosse i professionisti che sono mettiamo così fiduciari del tribunale che quindi normalmente assumono l'incarico di commissario non fanno i consulenti gli avvocati dell'impresa così come altra regola poi dovrebbe essere anche quella secondo me una cosa buona e giusta che chi fa il commissario poi non deve fare il curatore fallimentare perché è inevitabile sottrarsi per dirla tutta al dubbio che qualche volta il commissario giudiziale al 90% avrà pure ragione a segnalare profili di criticità per attivare procedure ex articolo 173 ma il sospetto che viene sempre che magari l'ha fatto un domani per poter duplicare il compenso allora qui dovrebbe valere la regola della moglie di Cesare e cioè che deve essere al di sopra di ogni di ogni sospetto a Catania per esempio mi risulta esserci una regola una regola di questo tipo ciò premesso però va anche detto che per la verità ecco a proposito di quello che diceva penso il collega sul ruolo del sul commissario invasivo che vuole autorizzare molto spesso i commissari che siano più o meno diciamo invasivi o più o meno inquisitori fanno un ragionamento diverso cioè dicono ma guardate tu puoi amministrare io poi poi mi devi riferire tu mi riferisci o riferisco al giudice eccetera eccetera cioè ci sono anche i commissari che diciamo più correttamente ribaliscono quello che è il loro ruolo non tanto ovviamente di gestione attiva ecco da questo punto di vista è giusto quello che diceva l'avvocato Bottai e cioè che c'è un rinvio sotto il profilo della responsabilità però il commissario mentre effettivamente il curatore di fatto è una sorta di amministratore delegato della procedura gestisce il commissario invece fa qualcosa di diverso perché la gestione sia pure con tutti i paletti e con tutti i limiti è pur sempre dell'impresa quello che raccontava invece il professor Filmanò sul ruolo invasivo delle banche io è vero in maniera sacrosanta pure io o meglio non io ma dei miei clienti l'hanno vissuto sulla loro pelle perché si scatenano le meccanismi perversi del tipo l'asseveratore viene nominato dalle banche il legale delle banche viene nominato ovviamente dalle banche ma viene pagato pur sempre dall'imprenditore e quindi chi dialoga con il legale dell'imprenditore è pur sempre un legale che viene pagato dall'imprenditore ma di fiducia delle banche il quale ha la funzione di trasmettere sussurri e grida ma più sussurri che grida per indurre appunto a determinate scelte poi a questo punto l'asseveratore dice che non assevera se non ha quantomeno una legal opinion che in italiano si chiama parere o in latino parere pro veritate di un qualche studio che si chiama Marchetta sì anche la mia parte si chiama Marchetta il diritto comparato che praticamente che deve venire da qualcuno che deve dimostrare alcune cose eccetera quindi praticamente naturalmente questa legal opinion come diavolo si vuole chiamare poi deve essere sempre di un professionista meglio appunto di uno studio titolato e così via il quale professionista poi che deve redigere questo parere se va ad incappare in alcune problematiche che hanno un carattere specifico per esempio di carattere fiscale dice un momento ma io per rendere la mia legal opinion ho bisogno del parere del fiscalista allora io in una certa vicenda e cioè un piano ex articolo 67 che da 5 anni non si riesce ancora a rivedere perché praticamente fino ad ora sono stati acquisiti qualcosa come 10 o 12 pareri diversi tra pareri fiscali pareri tributari pareri di diritto amministrativo la vicenda era anche complessa ma sicuramente con una moltiplicazione esasperata dei costi questo è vero purtroppo succede prego per quanto riguarda la responsabilità dell'attestatore almeno come ho capito la norma che mi posso pure sbagliare riguarda quando io ridico l'attestazione non quel piano come va a finire io non rispondo se c'è una discordanza tra le mie previsioni e l'effettività ma rispondo se dolosamente non ho controllato i presupposti questo è però ti faccio il caso quello classica fatti specie no l'affittuario dell'azienda fa una proposta irrevocabile di acquisto benissimo tu attestatore devi dire che quel concordato può reggere con quella proposta irrevocabile di acquisto come fai ad attestare se non hai una garanzia che quello paghi cioè tu dici quello pagherà devi fargli ovviamente l'analisi del sangue a quello perché paghi ah beh certo se c'hai il deposito stai a posto ma tante volte questo non viene fatto sì 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 ma siamo perfettamente d'accordo però tornando un attimo solo io facevo l'esempio dello scenario quinquennale l'attestatore deve ritenere verosimile per un aziendalista è massimo tre anni ciò io dicevo cinque anni perché in genere invece il riferimento di Tron sì la domanda la domanda era tre anni però Tron presuppone sì tre anni però presuppone una tecnica scientifica della redazione contanto di principi e contanto di cose allora a presidente Montenegone perché voglio sperare che non mi ritenga responsabile in questo quadro di responsabilità della diciamo delle cose che vorrò chiedere no per la responsabilità era me allora diciamo l'osservazione mi ha fatto tutti e tre i relatori sul futuro di questa procedura concordataria parte il fatto io non so se la disciplina aziendalista che adesso non ricordo i termini se i due tre o i cinque anni si riferiscono ad imprese in crisi perché una cosa è fare un piano industriale per un'azienda in bonus altra cosa è fare un piano industriale per un'impresa in crisi che deve recuperare comunque un certo un certo gap di inefficienza allora mi chiedevo mi chiedevo lavorando in una diciamo in realtà di micro imprese o al massimo di medio imprese allora mi chiedo i piani i piani con continuità aziendale sono difficili da fare questa è la domanda di un professionista che cerca di evitare quanto più responsabilità possibile anche per esperienze passate allora uno dico ma questa professione o la si vede come advisor o come consulente o come commissario giudiziale o come liquidatore è piena di responsabilità e quindi non so se sono in tempo diciamo a fare un altro percorso di studi per fare altra altra attività la cosa insomma mi sembra poco verosimile come i piani attestati di risanamento vuol dire che trasferirò questa mia idea ai miei collaboratori ai miei collaboratori di studio atteso che insomma non è possibile che in tutto questo passatemi il termine confusione anche normativa perché è così no si può dire il tutto e il contrario di tutto anche in questi diciamo in questi colloqui in questi incontri che facciamo anche su siti di consultazione voglio dire alla fine quello che emerge è che uno non sa mai che cosa deve fare e quali fondi giuridici deve fare perché per ogni cosa c'è un aspetto contrario questo è quello che ricavo io dalla discussione che facciamo allora i piani i piani attestati di risanamento adesso non ne parliamo proprio se mi chiamano non ci vado anche per qualche milione di euro perché già ho speso qualche cosa in causa di responsabilità civile quindi il mio patrimonio si è sottigliato e la cosa è così non credo insomma sono stato onorato di avere diciamo degli incarichi di fiducia come commissario giudiziale penserò stanotte se rinunciarli o meno perché ecco la stessa cosa come curatore perché effettivamente manco dopo il rendiconto si può stare tranquilli nonostante tutte le autorizzazioni ricevute cose eccetera eccetera e quindi desisti come diceva come diceva allora finisco di fare l'ausiliario del giudice mi sposto diciamo come advisor allora viene uno che non è la Fiat e non è manco l'impresa con 5.000 dipendenti manco quello con 3.000 con 3 che si trova in condizioni di difficoltà ovviamente nella sua vita non ha avuto la possibilità di consulenze così sofisticate che lo possono far arrivare in tempo a capire sarà andata da chi ci fa dichiarazione dei redditi la faccio pure io però diciamo mi sforzo anche di fare altre cose però probabilmente si sarà rivolto a una consulenza fiscale di tutti i giorni poi scopre anche nel tentativo di salvare l'azienda che man mano diciamo le difficoltà aumentano e va magari da una persona più probabilmente specializzata il quale gli dice stai male come mi devo curare allora che facciamo per la consecutività delle procedure dobbiamo pensare se in tribunale con una istanza già presentata di fallimento vado a valutare se è il caso di far accedere alla procedura di concordato o non chiedere una massa di informazione che non può essere mai completa e dire ma tu già sei morto è ancora il certificato che ancora non ti è arrivato quindi ti escogliamo dalla procedura di concordato e sei fallito e poi le viene invece ma mi hai fatto fallire e meglio devo dire ma già eri fallito è il tribunale che ne ha preso atto non posso fare un piano di concordato con continuità perché effettivamente insomma una previsione a cinque anni io mi ricordo l'intervento del professore Fimanò in un convegno scorso qua allo stesso posto sta notte quando è un guaiato appena si presenta un piano di concordato con continuità diventano tutte quante aziende che producono reddito e flussi finanziari allora la questione è di fare un piano stressarlo fino all'inverosimile e dire ai creditori se tutto va bene con tutti gli stress ti posso offrire il 3% per dire e quello c'è un piano credibile perché non penso che nessuno articola mai un piano da fare come dire da commettere anche un falso in atti da dire insomma che si vede la continuità se può produrre un certo reddito o meno non sarei non sarei il 33% la soddisfazione ma se lo si stressa e si dice si dà ai creditori una come dire un'informazione che le mette in grado di difendersi bene insomma io credo che comunque non si fa il piano con continuità lo cancelliamo no no ma dopo no no però le dico sicuramente lei dice non può fare niente io invece no no ma volevo completare poi le dico che si può fare volevo completare sì no volevo completare il liquidatorio il liquidatorio voglio dire per le imprese sempre dove operiamo noi di piccole di micro piccole imprese ma anche manco medie bisognerebbe vedere il miglior soddisfacimento per i creditori se avvara ancora questo fatto ma è sempre legato a un piano anche ancorché le guidatori poi mi chiedo anche sul research io insomma ho visto questa cosa che si mette in prima linea sempre il pagamento ai professionisti allora io vi voglio dire in questa sala e qua ci sono 150 colleghi pronti a testimonare qua non paga più nessuno né il 30% né il 30% né il 40% quindi quello che facciamo nella maggior parte dei casi lo facciamo veramente per spirito di abnegazione e per cercare di salvare qualche cosa ancora di utile socialmente questo è un fatto che si verifica qua ovviamente questo non è né dottrina né giurisprudenza né norma è un fatto che io dico così come come professionista che differenza c'è tra la situazione voglio ammettere anche di decozione aspettare 60-90 giorni che possa essere prodotto qualcosa di utile sotto il vaglio del tribunale che incidenza hanno i 60 giorni anche prorogabili per 30 o per altri 30 fino a 120 giorni per dare la possibilità anche a degli imprenditori ritengo sfortunati di poter acquisire anche una finanza esterna a quella dell'impresa se no questo concordato per quello che ci riguarda insomma sarebbe finito qua è meglio fare questa autodichiarazione di rifannimento e finisce la storia insomma questo lo dico come per avere un consiglio da questa no dottore io le dico subito lei fa una domanda di corretta perché pare se no che mi faccia una domostire ben che catti c'è una domostire dice bene perché guardiamo la parte costruenza adesso allora prima questione le parlo proprio come se parlasse e come spesso parlo con chi mi viene a chiedere una mano o come professionista o come imprese allora prima questione mentre dopo aver studiato tutta la vita l'affitto di azienda endo fallimentare oggi sono come l'avvocato Bottai che ha grande esperienza forse più di me come me in realtà sono contrario all'affitto di azienda endo concorsuale sono un grande sostenitore dell'affitto di azienda pre-concorsuale che può essere di due tipi virtuoso o fraudolento quello fraudolento ci sono tutti gli strumenti per in realtà oggi a cominciare dal recesso e non pagare nulla per ragioni che se vuole va a leggere un giudice del tribunale della dottoressa De Rosa in pubblica piazza ha detto che io l'ho praticamente distrutta al proposito di un suo provvedimento sull'affitto presidente quello per esempio è una cosa da consigliare subito c'hai o non c'hai soldi salvaguardiamo perché qual è l'interesse di tutti salvaguardare l'azienda allora come l'ho detto prima se uno viene dice guarda io ho un po' di soldi per sistemare le cose e avendo anche delle falcidie ce le ho per poter andare a parare io dico vabbè proviamoci proviamoci non è detto che riesci sicuramente proviamoci però attenzione se veramente ce li hai io ti dico che ti vai a prendere tutti i creditori all'esterno con un soggetto terzo e ti fai l'accordo di strutturazione vabbè benissimo fai l'affitto di azienda virtuoso fatto bene da persona seria persona per bene anzi mettiti tu in prima persona signor Giucci sono lo stesso proprio io cioè quello che sta fallendo e che fa il concordato preventivo l'altro in modo che se salta se salta l'affitto di azienda e io sono un signore il curatore il giudice delegato è contentissimo se c'è un imprenditore che sta facendo un buon affitto di azienda gli togli i problemi se non la sto facendo bene in realtà farà un breve periodo di esercizio provvisorio come dice l'avvocato Bottai perché consente una serie di operazioni che poi consiglio anche rispetto al concordato con continuità che anche quello si può fare scioglimento dei contratti cioè lo scioglimento dei contratti utilizzare quello che io chiamo spesso nei miei scritti dumping da procedura concursale facciamolo il dumping poi semmai il terzo lo trovo dopo ma nel frattempo frego un sacco di fornitore purtroppo come fallimento che la legge me lo consente è resistita anche a livello comunitario e utilizzo il potere di dumping cioè di mandare a far frivere i contraenti che non mi interessano senza avere conseguenze allora per esempio una cosa che consiglio e quindi l'affitto perché virtuoso non fraudolento due modelli qui dalla prima cosa in prima persona mio fratello posso mettere a mio fratello ma perché dovete mettere a vostro fratello vedete tu i stessi soci tale e quale quello il giudice lo vede lo deve vedere noi glielo andiamo proprio a dire caro signor giudice io faccio talvolta delle istanze di concordato ma scusatemi un attimo che sta tutto a posto voi potete fare un concordato fallimentare più semplice allora andate dal giudice e gli dite guardate io sono un povero marone non voglio spendere i soldi per concordare attestatore eccetera sta all'istanza di autofallimento l'ho preso in fit sta a tua disposizione se trovi uno meglio di me altrimenti provo il concordato fallimentare ora se io non ho responsabilità e qui siamo alla professionalità alla serietà sia dei professionisti sia degli imprenditori perché parliamoci cari qual è il problema grosso che noi non siamo abituati culturalmente a questi nuovi modelli ma non siamo abituati non solo per colpa nostra perché per esempio gli americani che diciamo sempre ma noi in America se uno tocca il capitale venga a lei ma quando mai in America hanno teorizzato ormai la banca rotta frotolente come ce l'abbiamo noi che in Italia si va mai in galleria per due motivi massacro manco omicidio volontario e banca rotta frotolente perché perché a banca rotta frotolente il termine di prescrizione decorre dal momento di adicazione di fallimento quindi mi sono pigliato 100 euro dalla cassa nel 2005 fallisco ora viene il curatore eh ma questi 5 euro qui del 2005 banca rotta frotolente che arriva e quindi per una cosa che si chiama furto in America che lo puniscono come furto aggravato nel modello americano io prendo banca rotta frotolente posso prendere 7 anni con misure cautelari intercettazioni perché gli americani sono scemi perché hanno scoperto una cosa che l'homo economicus è l'unico che subisce la deterrenza della pena mentre se io faccio le rapine o spaccio la droga me ne frego quanti anni mi danno perché solo che lo sa che va a fare l'homo economicus valuta però che succede dice Gary Baker nella sua teoria su crimes and economics dice se tu a questo madonna non gli dici cosa deve fare per non passare un guaio ecco la logica dell'attestatura perché qua il vero problema è l'incertezza cioè teniamo da un lato gente come come il presidente qua che tenete adesso che fa 30 anni cioè per lui è vita quotidiana fare un provvedere e soprattutto manualità come capita a noi e invece teniamo dall'altra parte uno che viene che vuole fare il professorino di scu quando io dico l'attestatore non deve fare questo perché mica perché penso che gli attestatori sono responsabili però io le dico che ci sono attestatori che hanno passato i guai neri perché tra l'altro il processo dura c'è il carico pendente il tribunale dice ah ma il presidente Monteleone da curatela a uno che c'è il carico pendente quindi non solo uno che gli vuole dare pure fiducia si trova gli altri sa perché da quello che è carico pendente eh e addirittura adesso hanno fatto una legge per esempio sull'amministrazione straordinaria che uno che c'è il carico pendente lo revocano allora il tema è che quando facciamo bene e facciamo con professionalità tutto si può fare che bene o male i problemi si risolvono il concordato con continuità io sconsiglio la continuità cosiddetta diretta ma la continuità con affitto che è molto più semplice anche per l'attestatore che non è che l'attestatore deve andare a vedere l'affittuario chi è chi non è che fa che dice deve verificare se quelle cose in termini di affitto se paga il fit si tratterà tutto al più di garantire il canone allora per quanto riguarda diciamo il concordato liquidatorio stiamo al problema al tema che diciamo precedentemente e le questioni devono reggere allora il problema bisogna che vedere cosa c'ho da liquidare allora la questione è che noi dobbiamo guardare alla allocazione per usare una parola nobile dei valori di tutti perché l'interesse è comune a tutti quanti allora noi dobbiamo utilizzare strumenti che poi il legislatore purtroppo fa lo slogan e questi famosi sempre spicca e spanna che poi ci condiziona è inutile che diciamo che no a Milano a Milano la band di scima quindi la band di scima qualcuno buono che ci sta sarà il Benevento ci ho premesso il continuità lo slogan della continuità è uno slogan da là fatto continuità diretta è come dicevo sono messi uno posti di Armani scemo ma che fai sta continuità diretta cioè fai voglio dire e perché poi il legislatore è colpevole perché il legislatore parla di continuità anche con l'affitto che per esempio le dico non è continuità perché quale sarebbero le norme sulla continuità che si applicano in caso di affitto dispiegatemele si applica l'interruzione dei rapporti no come nell'esercizio provvisore l'interruzione dei rapporti lo posso fare solamente se sono io il diretto quindi se faccio l'affitto si applica il 2558 sui finanziamenti è la stessa cosa quindi quello non è un contratto con continuità però ci dà un consiglio per esempio e questo le dico se addirittura io l'affitto lo programmo nel piano per farlo 20 giorni dopo di 20 giorni di continuità io cosa faccio? mi prendo la norma positiva sulla continuità diretta per sciogliermi dei contratti senza conseguenze e subire i voglio dire i profili risarcitori concorsualizzati non in prededuzione e poi dopo che ho fatto questa operazione che mi consente di sciogliermi tutti i rapporti che sono negativi quindi fare veramente un fresh start faccio l'affitto solo l'autorizzazione lo giudico perché l'ho messa nel piano le ho detto due cose per dirle che è tutto e ne potremmo dire altre 20 c'è un problema che ogni arte è il suo mestiere quindi io le dico diversamente da quello di continuo a fare bene il suo mestiere perché in realtà la crisi ha anche il vantaggio di far uscire i valori perché mai come in questo periodo nella mia vita io ho osservato ho osservato tutta gente che viene a canossa compresi gli spicca e span perché nei momenti di crisi tutti quelli che andavano nello studio che non c'avevano i libri nelle biblioteche ma c'avevano il caffè nelle brocche d'argento e i cioccolatini col cucchiaino ma non è buono più gli avvocati io voglio un avvocato bu questa è la verità quindi il mio consiglio alla fine della fiera è esattamente il contrario presidente posso portare una mia esperienza a quello che dicevo il professore Fimano io sono completamente d'accordo con lei noi qui a Benevento abbiamo la fortuna ma l'avete detto voi l'abbiamo detto noi più volte di avere il presidente Montrione il collegio è certo il collegio ho sbagliato ha ragione il collegio che cerca di guardare quelle che sono le realtà imprenditoriali io professore Fimano ho fatto quello che ha detto lei in cui il concordato mi sono trovato i due pre-commissari affitto indiretto affitto indiretto come aveva scritto nel contratto di fitto che c'erano rapporti di conflitto perché non l'abbiamo fatto l'imprenditore che aveva 70 anni ma il figlio il concordato è stato dichiarato inammissibile e il fitto è stato qualificato come abuso di diritto dopodichè mi sono trovato il curatore che faceva l'inventario e non era il fitto fatto prima e il curatore che continuava a dire all'imprenditore dovevate chiedere l'autorizzazione e discettavano se l'autorizzazione sì o no io sono arrivato e ho detto scusate ma io non dico sì o no mi dite qual era il giudice il giudice di pace chi doveva essere il tarra a chi doveva chiedere questa autorizzazione purtroppo è così ma c'è il problema di che purtroppo ogni tribunale fa la storia sì comunque quello che dicevate entrambi trova l'anello di giuntura nella circostanza che penso che tutti condividiamo perché avete battuto le mani che la crisi fa venire fuori i valori i valori da quando io combatto dal 2005 in un convegno fatto a Bari al Palace disse che c'era la scommessa di fitefacenza per il professionista del legislatore già dall'alba di quella riforma oggi i valori non sono solo dei professionisti sono dei magistrati sono dei giudici delegati sono degli avvocati sono di tutti coloro che si affacciano su questo teatrino quindi se noi non ci mettiamo in quel caso evidentemente sono venuti meno i valori di chi doveva essere terzo nel dirimere un conflitto tra debitore e creditori tenendo un occhio lungo sui livelli occupazionali sui criteri di gestione di quella crisi che è stata gestita malissimo si è arrivata al fallimento ciò che invece al fallimento poteva benissimo non arrivare alla luce di quello che dicevano perfettamente loro qui nel tavolo quindi questo è il problema vero lottare per mantenere alti i valori perché si arriva anche poi ai valori aziendali perché quelli devono essere salvaguardati ma noi valutiamo e parliamo di valori umani ci sono altre domande prima che veniate presi per stanchezza o anche perché volevo soltanto dirvi un'altra cosa avrete visto che qui ai piedi del tavolo ci sono delle stelle di Natale ma non è perché si sta avvicinando Natale o forse non è solo per quello ma perché noi in un momento particolare nelle ultime due giornate abbiamo pensato di essere vicini in un momento di solidarietà con l'AIL e quindi quando uscirete o anche la prossima volta troverete le stelle di Natale fuori è un modo come un altro per dare un contributo alla ricerca a favore di chi è stato un po' più sfortunato di noi se non ci sono altre domande io direi di fare un applauso ma veramente molto caloroso a questo tavolo tecnico che ci ha allietato un pomeriggio e ci vediamo giovedì prossimo per l'ultima di campionato essendo l'ultima di campionato ci aspettiamo spalti gremiti perché si gioca per lo scudetto ma l'abbiamo già vinto grazie 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 grazie